Cominciamo. Grazie a chi ha partecipato ai gruppi di lavoro, grazie agli esponenti del governo, ai sindaci che hanno interagito. Abbiamo una quindicina di interventi per il pomeriggio, quindi ovviamente chiedo a tutti di stare in tempi contenuti. La prima a cui do la parola è Valentina Ghio, sindaca di Sestri Levante. Valentina, cinque minuti? Buon pomeriggio a tutti. L'iniziativa di oggi, Storie Comune, credo che sia un'iniziativa importante che ci consenta di trarre spunti e di ripartire, partendo proprio, ripartendo, continuando, sono d'accordo con la sindaca di Marzabotto, come l'ho detto questa mattina, dai territori. Io sono sindaca appunto del comune di Sestri Levante, un comune di poco meno di 20.000 abitanti, in provincia di Genova, in una regione come la Liguria che per indicatori è un potenziale spaccato di quello che demograficamente potrà essere l'Italia nei prossimi anni. Un paese invecchiato, diseguale, fra centro e aree interne, con scarsa propensione al ricambio generazionale. E come tanti di voi, colleghi, in questi anni ho avuto modo di leggere i cambiamenti delle nostre comunità e l'emergere delle nuove distanze a cui la politica non sempre ha saputo dare risposta. In una regione che ha rapidamente cambiato colore, la Liguria, dove negli ultimissimi anni abbiamo perso comuni storici e tradizionali, come Genova, Savona, La Spezia, la stessa amministrazione regionale. E proprio in quel momento, dopo lo tsunami politico del 4 marzo, mi sono trovata a chiedere il consenso ai miei cittadini, dopo cinque anni di amministrazione. Ma di fronte a tempi difficili, come quelli dell'anno scorso e come questi tuttora, sono sempre rimasta convinta, e lo sono tuttora, di un aspetto, che le energie di civismo, di solidarietà, sono sempre lì, non spariscono. E, se ben manutenute, ci aiutano a contrastare lo spirito del tempo. E nel mio percorso la voglia di partecipare, di dare una mano, di fare politica, appunto l'ho incontrata anche in persone, in luoghi dove non ti aspetteresti. E allora, come diversi di voi, penso, abbiamo sviluppato un percorso civico, non tanto e non solo perché funziona alle ragioni tattiche, perché oggi non vale, non vale più, ma perché anche la fase elettorale corrispondesse realmente alla pratica amministrativa quotidiana. E perché, dopo quello che era successo pochi mesi prima, rimango convinta che i fortini e gli schemi non servono più e occorre davvero intessere un rapporto diverso con la realtà. Un rapporto che tenga conto di un fatto che esiste e resiste in diverse forme, nei luoghi che abitiamo e che amministriamo, uno spirito di comunità. E così, nonostante la calata di Salvini, più volte nel mio comune, anche poco prima delle elezioni, siamo riusciti a vincere al primo turno, radunando 30 punti percentuali in più rispetto alle elezioni dei tre mesi prima. E da quel percorso io tratto alcuni elementi che credo servano al nostro partito, a tutti noi, che c'è davvero la necessità di ripartire, di fare tesoro di un nuovo senso di comunità. E una riflessione da mettere al centro nell'agenda comune è quella di ripartire dalla costruzione di una nuova identità dei luoghi, di strategie di sviluppo che siano veramente orientate a creare valore nei luoghi, non ad estrarlo. Il ruolo delle comunità io credo che non possa essere soltanto una base su cui calare decisioni politiche dall'alto, perché le comunità sono un attore potentissimo, non lo devo dire a voi, possono essere davvero reali attivatori sociali in grado di produrre pratiche locali, pratiche generali. Ci sono esperienze anche di nicchia, ma che danno valore anziché estrarlo. Penso ai borghi autentici, alle cooperative di comunità, alle aree interne, che hanno azioni che hanno l'obiettivo di ridistribuire valore alla collettività. Credo che sia davvero un pilastro del nostro agire quotidiano, quello della comunità, quello più in grado di essere mobile e reattiva ai cambiamenti, una mobilità e un'adattabilità che la politica non sempre sfrutta. E credo, e aggiungo ancora un elemento prima di avviarmi alla chiusura, che la crisi ambientale stia tutta dentro questo ragionamento. E lo dico da Ligure, dove la fragilità del territorio rappresenta uno dei primi problemi su cui il governo regionale attuale non ha invertito la rotta e su cui il governo regionale prossimo deve fondare la sua azione. Noi, come amministratori, abbiamo a che fare con i bisogni dei cittadini. Dobbiamo dare risposte. E l'ambiente, oltre che una questione di sopravvivenza, è anche e soprattutto una questione sociale. Forse una delle più grandi questioni sociali che abbiamo di fronte. E ogni scelta di carattere ambientale che abbiamo davanti, se non vogliamo fare la fine di Macron con i gile gialli, non può essere staccata dal tema delle disuguaglianze di reddito, di status, di godimento dei diritti di cittadinanza. La mia regione è anche particolarmente disequilibrata. Le risorse naturali e ambientali sono collocate in aree interne, le più colpite dall'abbandono, dalla crisi fiscale, dallo spopolamento, mentre la ricchezza economica è concentrata sulla costa che però paga sia la mancata prevenzione ideologica dell'interno che la forza del mare che, e anche questo lo lancio in una prospettiva nazionale, tema poco dibattuto, paga anche un abbandono demografico, periodico e selettivo dei centri storici anche per politiche turistiche che non hanno ancora al centro la sostenibilità e l'autenticità dei luoghi. E quindi, quando parliamo di azioni ambientali, non possiamo considerare solo dove sono concentrate le risorse, ma come ritrovare le strategie di recupero e di sviluppo di quei luoghi, unendo in maniera disciplinare il tema dei beni primari, la sanità, i trasporti, la casa, per non obbligare le persone a spopolare i luoghi. Tutto si tiene. E questo non può partire solo da buone pratiche di comunità locali, ma deve trovare la sua sintesi in una dimensione nazionale e poi europea. Per questo, e mi accingo a concludere, se la sfida di domani è la costruzione di comunità sostenibili, e io credo che questa sia la sfida di domani, la sfida di domani è anche quella di rendere giusta, equa, questa transizione. Significa, ad esempio, di ricominciare a parlare di un welfare a misura di comunità, anche sperimentando rispetto ai nuovi bisogni che emergono. Welfare, che da cinque anni è una parola che è stata bandita dal governo della mia regione, significa gestire veramente il tema della rigenerazione urbana, in maniera socialmente equa, condivisa, programmatoria, tenendo insieme rigenerazione urbana con turismo, sviluppo economico, ambiente. Questa è la direzione, a mio avviso. Attenzione al territorio, con progetti chiari, condivisi, concreti, coraggiosi se serve, purché con uno sguardo lungo di futuro, ma che abbiano attenzione ai sogni e ai bisogni, anzi ai bisogni, ma anche un po' ai sogni delle persone. E credo che sia la sfida più importante e complessa che come territori, ma anche come nazione, come partito, come paese, abbiamo davanti. Grazie. Grazie Valentina, è il momento del sindaco di Bari, nonché presidente del Lanci, Antonio De Caro. E mentre sale, vi ricordo che 19, 20 e 21 di questo mese c'è l'Assemblea Nazionale del Lanci ad Arezzo, abbiamo un candidato. Grazie innanzitutto a chi ho organizzato questa manifestazione. È una bella opportunità, è un onore per me rappresentare i sindaci, lo è ancora di più rappresentarli all'interno del mio partito, il Partito Democratico. Voglio mettere in chiaro una cosa, né io, né i sindaci e gli amministratori locali che sono venuti qui oggi, sono qui per rivendicare un posto, per rivendicare un ruolo. Stiamo bene così. Siamo venuti soltanto per cercare di condividere quelle che sono le nostre storie e di metterle a servizio di una comunità, che è la comunità del Partito Democratico. Siamo venuti per dire una frase, per dire noi ci siamo, anche se non abbiamo poi moltissimo tempo da dedicare alla vita del nostro partito. Noi questa comunità l'abbiamo scelta, la rappresentiamo e ce ne prendiamo cura sui nostri territori, così come fanno gli altri compagni di partito, gli altri amici del nostro partito, che hanno cariche istituzionali diverse dalla nostra. Se mi permettete, però, noi lo facciamo con qualche responsabilità in più. Lo dico a chi non è amministratore, non certamente al nostro segretario, che è amministratore regionale, è stato amministratore provinciale, però non so se tutti conoscono la solitudine di un sindaco quando viene chiamato a fare delle scelte particolari, a fare una scelta importante, a mettere una firma importante. Non so quanti invece conoscono lo sconforto di vedere, per esempio, bloccata un'opera pubblica importante per la tua comunità, bloccata da un ricorso. Non so quanti conoscono la sensazione di paura quando ti viene recapitato a casa un proiettile, quando ti arriva una lettera minatoria, o quando ti arriva un avviso di garanzia. Ti arriva un avviso di garanzia e ti ritrovi sbattuto in prima pagina. La tua vita familiare, i legami, la tua famiglia, finiscono in una specie di tritacarne mediatico. Vieni dato in pasto a quelli che ormai chiamiamo gli odiatori seriali, sono quelle persone che, anche se non ti conoscono, hanno già deciso che sei colpevole, senza conoscere magari qual è il capo d'accusa. Sei condannato a priori e ti ritrovi poi che il capo d'accusa è abuso d'ufficio, concorso in abuso d'ufficio, concorso intentato abuso d'ufficio, perché hai messo una firma o perché quella firma non l'hai messa. Qualcuno di noi, anche in questa sala, si è ritrovato indagato per omicidio colposo, perché magari il corso d'acqua che è sondato era di proprietà della regione, la manutenzione la doveva fare la provincia, però il sindaco che viene rinviato a giudizio si prende un avviso di garanzia, perché in una norma che per fortuna abbiamo cancellato c'era scritto che il sindaco è il responsabile della protezione civile, con tutto quello che accade, con l'emergenza. Vi arriva sul telefono da parte della protezione civile nazionale che poi la manda a quella regionale, che poi la manda a quella comunale e ti avvisa, c'è l'allerta, no? L'allerta, a volte sono simpatiche le allerte, perché ti arriva contemporaneamente, a distanza di un minuto, allerta pericolo incendio, poi ti arriva allerta pericolo meteo, piove, che uno dice speriamo che arriva prima la pioggia, che se poi scoppia l'incendio almeno l'incendio non si propaga. O ti arriva l'allerta sulla neve, e questa è una delle cose più tragiche, soprattutto dove non nevica mai, come nella mia città. Che cosa ti arriva? Ti arriva allerta, può nevicare in Puglia, Calabria e Basilicata, è una parte della campagna che tu ti chiedi, ma nella mia città poi nevica? Che faccio? Vado a controllare le previsioni meteo? Bene, io sono riuscito a fare una cosa da campione olimpico, sono riuscito a chiudere le scuole il giorno in cui non ha nevicato, io ho fatto incazzare tutti i genitori che dicevano Sindaco, ma io dove li porto i bambini adesso se non li posso lasciare a scuola? E sono riuscito a tenere invece le scuole aperte quando ha nevicato. Giustamente ho fatto incazzare nuovamente tutti i genitori il giorno dopo perché hanno detto io come li porto a scuola se ha nevicato, che non ho la possibilità di portarli a scuola? E diventi la vittima delle chat dei genitori che non sanno che cosa fare con i figli. Però ti può capitare anche di prenderti un avviso di garanzia, perché non tutte le città hanno lo spargisale, lo spalaneve. Nella mia città non nevica quasi mai. Se dovessi comprare uno spalaneve, uno spargisale, la Corte dei Conti mi dice perché anche se da quando faccio il Sindaco cinque anni ha nevicato tutti gli anni, non era mai successo prima. Va bene. Poi non so nemmeno quanti sanno che abbiamo anche il sapore amaro, poi ci resta in bocca, perché poi quando siamo assolti da quelle accuse, ecco, la notizia della soluzione va a finire, nella migliore dell'ipotesi, in un trafiletto a pagina 20 dei giornali, le televisioni non ne parlano nemmeno più, purtroppo. Questo è quello che viviamo tutti i giorni, però noi non ci lamentiamo. Perché? Perché i sindaci continuano a dire che fare il sindaco è il mestiere più bello del mondo ed è vero, guardate, lo dico a chi non ha fatto l'amministratore, perché tutto quello che facciamo, tutte quelle firme, anche se ci portano tante responsabilità, tutti quegli atti, quelle delibere di Consiglio Comunale, le delibere di Giunti, in realtà non sono altro che piccoli passi o grandi passi verso il miglioramento delle condizioni di vita delle nostre comunità, le comunità che abbiamo l'onore di guidare, di accompagnare. Ecco perché, Nicola, noi l'anno scorso ci siamo veramente incazzati, non lo so se si può dire così a una riunione di partito, ci siamo incazzati quando ci hanno tolto i fondi per le periferie, perché quelli finalmente erano dei fondi, quei 2 miliardi e 100 milioni di euro, che andavano ad incidere in quelle zone del nostro Paese che sono le periferie, dove si concentra il disagio dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico e sono sparite con un emendamento di notte al Senato e la colpa era di tutti, perché anche il nostro partito le ha votate, l'abbiamo chiamato furto con destrezza, perché è stato fatto di notte, perché probabilmente molti, anzi sicuramente, molti senatori quel giorno non se ne sono accorti, ma noi abbiamo perso quelle risorse e quelle risorse per noi sono, magari per qualche parlamentare l'emendamento era solo un emendamento a una norma, per noi quell'emendamento significava perdere risorse, risorse che servivano ad accompagnare alcuni nostri concittadini alla felicità e noi ce ne accorgiamo subito che quando firmiamo qualcosa impattiamo direttamente sulla vita delle comunità. Io me ne sono accorto il giorno che sono diventato sindaco, dopo qualche giorno sono andato a inaugurare, l'ho raccontato in un'assemblea del Lanci, sono andato a inaugurare un giardino e in quel giardino c'era soltanto una giostra, un'altalina, però c'erano tanti bambini, uno dietro l'altro, che litigavano perché giustamente tutti volevano utilizzare quell'altalina. Due signori si sono avvicinate verso di me e ho detto adesso mi menano e proverò a dare la colpa a quello che c'era prima di me che si chiama Emiliano e pesa 150 kg io sarei attento a dargli la colpa a uno che pesa 150 kg però a lui la volevo dare quando si sono avvicinate e invece invece di arrabbiarsi mi hanno detto grazie e io ho detto ma perché mi state dicendo grazie e quelle due signori mi hanno detto grazie sindaco perché grazie a questa giostra noi ci siamo conosciute e io ho detto ma perché abitate in questo quartiere da qualche giorno da qualche mese no sindaco abitiamo in questo nello stesso palazzo da 15 anni e lì ho capito che le periferie se non facciamo gli spazi per socializzare le persone non le facciamo conoscere e continuano ad avere paura di scendere di casa perché se vedete i dati dell'Isford dell'anno scorso i cittadini non hanno fiducia nell'Unione Europea lo sapevamo non hanno fiducia nelle istituzioni non hanno fiducia nel Parlamento non hanno fiducia nemmeno tantissimo nei sindaci è meglio che lo dico anche questo però la cosa grave è che 3 sui 5 non hanno fiducia nei loro vicini di casa soprattutto in quelle che sono le zone periferiche ecco quando si parla di periferie secondo me bisogna parlare prima di tutto di quelle due signore parlare con quelle due signore che hanno scoperto di essere vicine di casa grazie a una piccola giostra un'altalena e oggi sono meno sole di prima forse si fidano di più dei loro vicini di casa e quelle due signore ci spiegano a noi amministratori a noi sindaci che è un cantiere in una città non è soltanto una procedura complessa di un appalto una progettazione che si blocca una direzione lavori una variante in corso d'opera ecco tutte quelle cose quelle attività quelle opere pubbliche che ci sono state finanziate hanno a che fare con la felicità delle persone per questo abbiamo fatto le baricate l'anno scorso siamo riusciti a farceli restituire quei fondi che andranno ad incidere nelle periferie per questo Nicola noi chiediamo una mano al nostro partito per renderle stabili quelle risorse per rendere stabili le risorse nei prossimi anni sono fondi di investimento non sono spese correnti perché servono a dare ai sindaci la possibilità di programmare di incidere in quelle che sono le zone dove si concentra il disagio economico e il disagio sociale perché guardate compagni se ci ostiniamo a giocare ogni giorno con i sondaggi lo 0-3 in più lo 0-3 in meno e un altro giorno è lo 0-5 e poi lo 0-2 non ci rendiamo conto che poi la vita vera non sta nei sondaggi la vita vera sta in quelle zone del nostro paese ecco e noi da quelle periferie lo voglio dire qui davanti agli amministratori noi non ce ne siamo mai andati perché tutta quella retorica sull'elite e il popolo la retorica dei compagni con il Rolex il partito democratico che vive soltanto nei salotti buoni bene non vale non vale non vale almeno per gli amministratori locali perché io quando ho fatto la mia campagna elettorale sono andato in quel quartiere che si chiama Lo Seto sono andato in un altro quartiere periferico che si chiama San Girolamo dove abbiamo fatto un'operazione di riqualificazione urbanistica ricucendo anche dal punto di vista sociale io non sono andato nei salotti sono andato in qualche cucina sicuramente dove mi invitavano le famiglie per quello mi sono messo a dieta ma non c'erano i salotti non ci stavano i palazzi quando il partito democratico e lo abbiamo dimostrato perché io in quei quartieri periferici ho preso una percentuale di consenso del 70% e se ci sono tanti sindaci qui del partito democratico è perché anche quei sindaci hanno preso quelle percentuali lo avete ascoltato dalla viva voce dei sindaci negli interventi prima di me anche loro sono stati eletti in un momento particolare in cui le persone entravano nella cabina elettorale e votavano per un sindaco del partito democratico e contemporaneamente magari votavano da un'altra parte per le europee quando il partito democratico scende per strada come abbiamo dimostrato quando parla con le persone quando guarda in faccia le persone non ce n'è per nessuno e sono migliaia di amministratori del partito democratico che ogni giorno quotidianamente sono presenti in quelle periferie ascoltano i cittadini discutono si prendono gli impreperi a volte meritati a volte quegli improperi non sono meritati a volte se li prendono anche in conto terzi perché sono rivolti ad altri ed è per questo che noi sindaci oggi siamo qui per essere ascoltati Nicola non vogliamo nessun ruolo vogliamo essere ascoltati perché innanzitutto vi ringraziamo io ho fatto parte prima ho partecipato al tavolo sugli enti locali vi ringraziamo perché siete riusciti a evitare l'aumento dell'IVA che sarebbe stato un disastro per il nostro paese però contemporaneamente vi chiediamo di darci una mano di darci una mano per le spese di investimento per le spese correnti perché è vero che non è facile lo spazio è strettissimo come ci ha ricordato stamattina Antonio Misiani però comunque ci sono stati degli interventi per la famiglia per il cuneo fiscale un alleato di governo non ha voluto toccare quota 100 ecco credo sia giusto trovare qualche risorsa non tutte quelle che ci aspettiamo perché non è questo il momento le sposteremo all'anno prossimo nei prossimi due anni ma trovare delle risorse per evitare che si perdano i 110 milioni dei dimutasi recuperare qualcosa di quei 564 milioni non tutti una parte una piccola parte che ci può servire per fare la perequazione verticale i fondi per gli investimenti investimenti per le città più grandi e medie quindi il fondo per le periferie ma anche i fondi per i piccoli comuni all'interno di una legge che già esiste che è la legge Realacci perché i piccoli comuni che si spopolano non sono un problema delle persone che abitano nei piccoli comuni quello non è un problema del sindaco del piccolo comune se si spopolano i piccoli comuni è un problema del nostro paese perché non abbiamo più chi può tutelare i beni culturali le tradizioni del nostro paese chi mettiamo a controllare le chiese i castelli i musei chi ci va l'esercito così come rischiamo di non riuscire a tutelare nemmeno l'assetto idrogeologico chi le fa le manutenzioni di territori enormi che sono abitati da pochissime persone e questi sono temi che riguardano direttamente noi sindaci però segretario noi vorremmo essere ascoltati come oggi anche su altri temi che apparentemente non sono temi che hanno un legame stretto con il sindaco non sono competenza dei sindaci però ci sono temi come il lavoro l'immigrazione che impattano direttamente su di noi e noi ce ne accorgiamo subito io sai quando mi sono accorto Nicola che sul lavoro non posso dire non è mia competenza il secondo martedì di ricevimento cinque anni fa la prima volta che l'ho diventato sindaco è arrivata una signora con due bambine e mi ha detto sindaco tu mi devi aiutare a trovare un posto di lavoro perché l'abbiamo perso io e mio marito e se non troviamo un posto di lavoro non sappiamo come pagare il mutuo di casa io ho detto signora io non le posso fare niente guardi non glielo sto dicendo adesso che ho vinto le elezioni io l'ho detto in campagna elettorale ho tirato fuori la fotografia sul mio telefono del cartellone 6x3 in cui c'era scritto il sindaco non mi trova il posto di lavoro era scritto in vernacolo era scritto in dialetto a dimostrazione che non può essere una competenza di un sindaco quella signora si è alzata e ha tirato fuori da un bustone di plastica una piccola lattina di benzina io mi sono ricordato di quello che era successo al mio predecessore quanti di noi possono raccontare casi analoghi qualche anno prima io facevo l'assessore sono entrato col sindaco dell'epoca nell'androne del comune c'era un uomo che si era cosparso di benzina e si voleva dare fuoco con un accendino il mio predecessore sempre emiliano si è buttato addosso a quella persona l'ha schiacciato sul muro e l'ha salvato non si è incendiato si sarà rotto un paio di costole sempre per i 150 chili però io ho pensato a quell'immagine a quella scena mi sono alzato e mi sono messo tra la signora e le due bambine le ho detto signora ma perché si vuole suicidare a due bambine bellissime la signora mi ha guardato e mi ha detto io mi devo suicidare io devo uccidere a te se non mi trovi un posto di lavoro i sindaci lo capiscono subito che non possono dire non è una mia competenza e anche sull'immigrazione sull'immigrazione io non mi voglio abituare a un paese in cui un uomo può tirare un calcio nella pancia a un bambino di tre anni solo perché è nero perché quello è un bambino di tre anni però non voglio nemmeno che qualcuno mi possa dire che io sono buonista io non sono buonista io non sono buonista io non sono tra quelli che propongono l'accoglienza senza le regole avete ascoltato anche l'intervento stamattina di Giorgio Gori non sono tra quelli che dicono che il problema non esiste io sono un sindaco e so che se in un paese prima durante l'intervento sugli enti locali è intervenuto un sindaco se in un comune di tremila abitanti porti mille e cinquecento immigrati tutti in una caserma è chiaro che quello è un problema è un problema è un problema perché hai delle implicazioni sociali hai delle implicazioni inizia un fermento si creano delle tensioni però dobbiamo cominciare a usare parole nuove e forse abbiamo la necessità di usare anche parole chiare nel senso che non c'è un'emergenza io facevo l'ingegnere ormai sono anni che non esercito più però i conti li so fare ancora due anni fa c'è stato diciamo il boom dell'immigrazione 179 mila immigrati supponiamo che li abbiamo contati male erano 200 mila diviso 60 milioni di abitanti sono tre immigrati ogni mille abitanti a Cona che ce ne ha tre mila di abitanti tre per tre fa nove se gli mandi nove immigrati non se ne accorge nessuno quell'accoglienza diventa integrazione se ne le mandi mille e cinquecento nella caserma si incazzano i residenti ma si incazzano pure gli immigrati a stare tutti insieme di etnie diverse all'interno della stessa caserma questo però non significa dire non c'è un problema non c'è un problema non lo possiamo dire perché se no tu da sindaco del partito democratico non ti spieghi perché un tuo elettore storico la signora Maria del quartiere libertà dove nella mia città c'è il maggior tasso di presenza di immigrati il maggior tasso di immigrazione non ti spieghi perché quella signora che ha fatto volontariato per tutta la vita non esce più di casa c'ha paura e ti dice sindaco io i neri non li sopporto più ecco noi dobbiamo avere il coraggio di scendere per strada di parlare con quelle persone di utilizzare parole nuove e dobbiamo capire che c'è uno squilibrio sociale che può creare un disagio e noi quel disagio lo dobbiamo prevenire non lo dobbiamo ignorare non possiamo far finta che non è successo nulla non c'è l'invasione che qualcuno annuncia ma sappiamo che le nostre comunità però hanno bisogno di risposte e quelle risposte sono diverse perché chi ha assistito ai dibattiti quest'estate ne abbiamo fatto anche uno io e te Giorgio i dibattiti che abbiamo fatto delle feste delle unità si accorge che in realtà abbiamo posizioni diverse anche di noi ognuno di noi perché abbiamo vissuto anche esperienze diverse io vengo da una città che ha un porto e quel porto ha fatto venire in città tante persone tante persone sono uscite dalla mia città il mar Mediterraneo porta ancora gli echi di quei popoli anche la mia faccia porta gli echi di quei popoli Bari è stata sede di un califato tant'è vero che quando hanno mandato la fotografia dal ministero dell'interno in cui c'era Minniti il sindaco di Bari presidente dell'Anci e i sindaci libici da Lanza a Roma dicevano ma ci avete mandato quella solo dei sindaci libici mandateci anche quella in cui c'era il sindaco di Bari proprio perché non si distingueva dal colore della pelle dai tratti somatici però abbiamo esperienze diverse chi c'ha il porto vive un'esperienza diversa da chi non ce l'ha chi come nella mia città ha 14 clan criminali è chiaro che si preoccupa di meno di un immigrato che sta spacciando sono più problematiche le estruzioni che fanno i clan criminali però questo non significa che dobbiamo sottovalutare il problema dobbiamo cominciare a studiare delle parole nuove a studiare di più a stare insieme i sindaci gli amministratori i parlamentari noi vogliamo soltanto essere ascoltati sapete che sono chi mi conosce sa che sono sincero e diretto nessuno deve temere un protagonismo da parte dei sindaci non c'è questa volontà e comunque siccome c'è una legge che dice che siamo gli unici rappresentanti istituzionali che non possiamo non solo non possiamo essere eletti non possiamo essere nemmeno candidati voglio dire posso dire che possono stare tutti tranquilli noi vogliamo soltanto amministrare le nostre città e lo vogliamo fare avendo i mezzi necessari e cercare di rivendicare di avanzare delle proposte che sono quelle che abbiamo fatto oggi in questi tavoli tematici chiudo mi sono allungato un po' in rappresentanza un po' dei sindaci del nostro paese e faccio una proposta a questa assemblia governare il presente è un impegno che abbiamo assunto e ovviamente da questo impegno noi non ci possiamo sottrarre ma non ci dobbiamo dimenticare che la sfida vera però deve essere quella di avere un'idea un'idea forte per il futuro di questo paese un'idea che deve far tornare a sognare le donne e gli uomini di questo paese donne e uomini di questo paese che devono cominciare a guardare con più fiducia al futuro loro al futuro dei nostri figli e quindi chiediamo di essere ascoltati sul lavoro sull'immigrazione sulle povertà nuove sulle povertà vecchie vogliamo essere ascoltati sui temi come i temi ambientali la proposta è partiamo però dalle città non ripartiamo dalle città perché il primo intervento è stato molto bello stamattina non dobbiamo ripartire siamo già partiti nelle città se le elezioni le abbiamo vinte partiamo dalle città stiamo nelle città in maniera concreta perché quelli sono i posti dove le persone si sentono sole le città i comuni hanno bisogno della presenza dello Stato e c'era una frase bellissima di un personaggio della storia che ha affascinato tanti di noi che a un certo punto diceva se vale la pena rischiare io mi gioco l'ultimo frammento di cuore e io sono venuto qua oggi perché mi voglio giocare l'ultimo frammento di cuore insieme ai sindaci e insieme alla mia comunità che è il Partito Democratico grazie allora siccome era il presidente del Lanci gli abbiamo dato un bonus rilevante ad Antonio adesso tocca un altro presidente quello di Lega Autonomie di Ali sindaco di Pesaro Matteo Ricci il quale però non se ne approfitterà del fatto che è presidente vi assicuro che quello che parlerà più di tutti è Gnassi quindi state tranquilli che io e Antonio diciamo staremo nella media in questi giorni grazie anche da parte mia a chi ha organizzato questo evento a Nicola agli organizzatori a Vaccari che in pochi giorni sono riusciti a mettere in piedi questo appuntamento importante in queste ore si sta parlando molto della foto di Narni non c'è giornale che apriamo sito che non parli della foto di Narni ed è stato bravissimo il nostro amico De Rebotti a far diventare Narni centrale nella politica nazionale però io credo che ci siano delle foto ugualmente importanti molto importanti che noi abbiamo messo troppo presto nel cassetto o addirittura non abbiamo neanche sviluppato e guardato bene e sono le foto di Bari le foto di Bergamo le foto di Firenze le foto di Ancona di Brescia di Lecce di Reggio Emilia di Prato ovviamente anche di Pesaro di tutte quelle città come Martabotto dove nello stesso giorno gli elettori hanno dato due voti completamente diversi e siccome noi e gran parte dei sindaci dove abbiamo vinto è successa la stessa cosa e i comuni più piccoli neanche il selfie ci siamo fatti altriché la foto e siccome noi quest'estate abbiamo fatto un'operazione molto importante perché abbiamo fermato il delirio di onnipotenza di Salvini con il Parlamento e con la democrazia e la Costituzione noi però Salvini prima o poi e i populisti in generale dovremmo sconfiggerli nelle urne e noi non siamo andati a vedere effettivamente che cosa è successo in quelle città e io credo che se il Partito Democratico il nuovo centrosinistra poi dirò vuole avere la forza per battere i populisti nelle urne non può fare a meno dei sindaci popolari perché i sindaci popolari e i sindaci riformisti hanno già battuto il populismo il populismo evocava anche nelle nostre città i problemi e noi con fatica abbiamo provato a risolverli il populismo anche nelle nostre città ha buttato benzina sulle tensioni e noi invece abbiamo buttato acqua sulle tensioni perché sappiamo che la coesione sociale è un elemento fondamentale e le tensioni creano maggiore insicurezza i populismi fomentavano l'odio e il razzismo anche nelle nostre città e noi invece abbiamo dimostrato Giorgio a Bergamo ha questa esperienza straordinaria dell'accademia per l'integrazione tanti sindaci l'hanno fatto abbiamo dimostrato che l'integrazione è a sicurezza e che le nostre città senza integrazione sono meno sicure e abbiamo difeso anche in queste ore credo che dobbiamo farlo tutti insieme Liliana Segre dagli attacchi di odio dagli attacchi razzisti perché noi facendo i sindaci nelle nostre città difendiamo non solo i valori della memoria ma garantiamo a Liliana tutti i testimoni che abbiamo avuto della pagina più brutta dell'umanità che quella memoria non verrà dimenticata che saremo noi nei nostri comuni a tenere accesa la fiaccola e a batterci contro il razzismo affinché questo non avvenga più i populisti anche nelle città tolgono le panchine noi le mettiamo le panchine noi portiamo la vita dove c'è degrado noi pensiamo che investire in cultura e in bellezza non solo faccia bene all'economia e il bonus del 90% introdotto questa mattina da Franceschini è una bella notizia non solo faccia bene all'economia ma fa bene alla sicurezza di quelle città perché una città più bella è una città più sicura una città più viva è una città più sicura abbiamo dimostrato nelle nostre città che i populisti possono perdere e possiamo anche sconfiggere la loro propaganda perché è qui che c'è il vero riformismo noi nei territori cosa abbiamo fatto siamo riusciti a spiegare con fatica stando in mezzo alla gente ma anche utilizzando bene i mezzi di comunicazione compresi social la fatica del riformismo la fatica del gradualismo altrimenti non avremmo vinto allora è evidente che quello che è successo ha a che fare con lo scenario nazionale attuale intanto io ritengo che a delle città si dimostra che quest'idea che nel fronte riformista occorra dividersi i compiti tra chi fa la sinistra e chi fa il centro è un'idea vecchia superata dai tempi quelli che hanno votato per me in comune e che hanno votato per la Lega alle europee cosa sono moderati quando votano per me sono estremisti quando votano per la Lega sono elettori che negli ultimi cinque anni hanno cambiato continuamente il voto e allora quest'idea di riorganizzare il fronte politico con schemi del passato è un'idea sbagliata è un'idea sbagliata di chi se ne è andato ed è un'idea sbagliata se nel nostro partito c'è chi pensa che adesso noi possiamo tranquillamente rifare il PDS o la sinistra perché noi saremo morti è un'idea proprio sbagliata di analisi politica perché siamo dentro la fase più fluttuante che c'è stata nella storia degli ultimi decenni dov'è il centro che cos'è il centro in questa discussione è ora evidente che lo ha detto a Matteo prima che lasciasse e facesse un'altra scelta i sindici uniscono non dividono noi nelle nostre città abbiamo unito non abbiamo diviso e abbiamo costruito delle coalizioni pur sapendo e qui c'è anche però attenzione la lezione per noi pur sapendo che le coalizioni funzionano se la leadership è forte e rispettata se noi nelle nostre città avessimo avuto problemi di maggioranza continua e attacchi continui all'interno della maggioranza noi non avremmo vinto i nostri comuni e lo dico perché chi se n'è andato sono tutti amici con i quali abbiamo come dire fatto un tratto di strada insieme nei ragionamenti che fanno in privato se non altro c'è quest'idea che i partiti democratici sono uno strumento superato che non funzioni più la democrazia applicata ai partiti e invece noi siamo qui come ha detto Antonio poco fa perché noi crediamo nel partito democratico e non crediamo nei partiti personali perché noi pensiamo che si possa stare in un partito democratico e che quella leadership però deve essere rafforzata rispettata perché altrimenti non siamo competitivi e noi dobbiamo risolverlo questo problema perché se noi facciamo un congresso ogni volta che facciamo un congresso il congresso rinizia il giorno dopo noi non solo sbagliamo ma non vinciamo più un'elezione e al tempo stesso i sindaci continuano a avere l'abbiamo visto anche oggi ho girato un po' tutti i tavoli ho sentito i vari interventi una grande voglia di cambiare le cose hanno l'ansia di cambiare le cose non perdiamo l'ansia di cambiare le cose mi è capitato l'anno scorso di fare un libro che parlava dei sindaci e partiva da quest'idea da questa domanda che mi sono fatto ma perché i sindaci sono così famosi tra i bambini sarà capitato ad ognuno di voi ti conoscono ti salutano addirittura ti chiedono l'autografo parlando con i miei figli è venuta fuori la risposta la risposta è banalissima per i sindaci per i bambini il mondo conosciuto è la propria città il mondo al quale riescono a dare un confine un'identità è la propria città e di conseguenza vedono nel sindaco la persona più importante perché è il capo del mondo conosciuto e al tempo stesso ci sono delle gag con mio figlio carinissime perché ecco un'assemblea come questa mi avrebbe detto alla fine della riunione babbo ma perché quello lì l'han chiamato sindaco quello là l'han chiamato sindaco per lui ovviamente c'è un sindaco solo è il sindaco della sua città e gli devo spiegare che ce ne sono 8000 così come pensano molti che sia molto più più importante di altre figure istituzionali e al tempo stesso parlando con ognuno di voi in questi anni abbiamo incrociato molto le nostre esperienze nonostante che ci lamentiamo continuamente perché i sindaci hanno maggiori responsabilità e minori indennità lavoriamo H24 e rischiamo come è stato detto un avviso di garanzia un giorno sì un giorno sì nonostante questo a chiunque di noi se venisse intervistato fuori da questa sala diremmo che il sindaco è la cosa più bella che abbiamo fatto e se ci pensate ritorna fuori quel bambino quel ragazzino che è dentro di noi che quando abbiamo deciso di impegnarci nella politica per la nostra città non l'abbiamo fatto esclusivamente per una legittima ambizione personale l'abbiamo fatto perché volevamo cambiare le cose ed è per questo io dico che spesso e volentieri quando inauguriamo un'opera pubblica io provo un piacere fisico non vorrei essere ardo oggi pomeriggio alla domenica poi mi hanno detto che questo è anche un luogo diciamo di proprietà religiosa non mi sembra il luogo più adatto ma è così perché ripercorriamo come è stato detto la fatica che abbiamo fatto nell'ideare nel trovare il finanziamento nel superare la burocrazia l'ansia di fare le cose è utile al partito democratico l'ansia di risolvere i problemi è utile al nostro paese e sta nei nostri territori e allora anche qui sul quadro delle alleanze io credo che dobbiamo uscire dall'ipocrisia in questi giorni ne abbiamo parlato un po' anche tra di noi o noi pensiamo che il governo che è nato debba durare come tutti diciamo tutti lo diciamo fino alla fine della legislatura e almeno fino all'elezione del Presidente della Repubblica allora se quello è il film come pensiamo che governare come possiamo pensare che governare insieme tre anni non vada a cambiare il quadro politico o pensiamo davvero che i prossimi mesi si vada a votare allora sì è un'alleanza come dire d'emergenza ma se invece il ragionamento è un altro è evidente che noi dobbiamo fare come sta provando a fare Nicola tutti i tentativi per provare ad ancorare un nuovo pollo riformista europeista quel pezzo di società che oggi è rappresentata nel Movimento 5 Stelle non è facile non è facile per noi ma non è facile neanche per loro ma loro dovranno scegliere perché io l'impressione che ho è che in Italia e in Europa si stia creando un nuovo bipolarismo che non è magari più esattamente destra-sinistra come noi l'abbiamo classificato ma che vede da una parte i riformisti gli europeisti e dall'altra i populisti e i sovranisti e ci sono due forze politiche che dovranno decidere da che parte stare che oggi ancora stanno con un piede di qua un piede di là o giocano nell'ambiguità uno è il Movimento 5 Stelle e l'altro è Forza Italia se è vero che noi siamo l'alternativa al populismo è chiaro che dobbiamo provare a crescere con una nostra proposta politica dobbiamo provare a far crescere il polo europeoista e riformista non dipende tutto d'oggi dall'Umbria forse abbiamo sbagliato a caricarla troppo di significato anche noi perché l'Umbria ha problemi che vanno ben al di là delle dinamiche nazionali lo sappiamo e nonostante tutto oggi ce la giochiamo siamo competitivi cosa che fino agosto non eravamo non eravamo neanche è una strada difficile mi rendo conto io sto provando a sperimentarla nella mia città abbiamo dato una delega nella consigliera a 5 Stelle e Giorgio mi ha detto subito ma che fretta hai nessuna nessuna fretta però penso che se è questo lo scenario dobbiamo provare laddove ci sono le condizioni è chiaro che dove sei stato denunciato insultato dalla mattina alla sera non ci sono le condizioni laddove magari ci sono condizioni migliori dobbiamo provare a mettere in gioco anche questa idea e allora noi abbiamo una grande opportunità oggi perché abbiamo tanti sindaci del PD e abbiamo un rapporto con il governo rinnovato io non sto qui ad elencare vado veramente alla chiusura non sto qui ad elencare tutte le cose che oggi abbiamo posto nella parte corrente e nella parte degli investimenti rieleggeremo a Rezzo Antonio De Caro presidente dell'Anci che ha fatto un ottimo lavoro in questi anni e se verrà rieletto e se verrà rieletto come sarà rieletto è perché i sindaci i sindaci che sono qui hanno fatto un grande gioco di squadra non hanno fatto prevalere personalismi e abbiamo impedito che la destra si infilasse rimettendo in discussione gli equilibri all'interno dell'Anci dal resto i sindaci hanno un difetto che io ritengo un pregio Nicola non sono correntisti sarà difficile trovare dei sindaci diciamo correntisti ma c'è un motivo perché noi decidiamo come minimo 10 cose al giorno e non possiamo chiedere ogni decisione che prendiamo il consiglio al capo corrente di turno e quindi per noi diventa difficile essere organici a una corrente interna abbiamo questa caratteristica e vogliamo metterla in gioco sulle richieste che abbiamo fatto per il governo sugli investimenti diamo gambe a quello che abbiamo detto investimenti sulle periferie investimenti sul green trasformiamo le città una nuova urbanistica Andrea su questo ha una proposta molto forte cambiateci il codice degli appalti guardate ci sono due cose che hanno c'è una cosa che ha fatto bene l'ultimo governo prima del nostro una delle poche cose ha aumentato a 200 mila euro la possibilità di dare lavori un po' nei territori allora la dico così noi non possiamo per colpire pochissimi disonesti mettere in brigliare migliaia e migliaia di sindaci onesti che non riescono a mettere in moto il paese come potrebbero mettere in moto c'è un preconcetto di fondo è un preconcetto di fondo noi vogliamo essere protagonisti della ripresa il governo populista che c'è stato fino a luglio ha bloccato l'Italia noi possiamo rimettere in moto l'Italia lo possiamo fare con gli investimenti e poi abbiamo fatto questa proposta Antonio devo dire a Misiani l'ha studiata questa della riduzione dell'iva per gli investimenti green gli investimenti scolastici l'iva non è toccata e ovviamente ci rendiamo conto che non è possibile riprenderla ma se in futuro si dovesse ragionare su un equilibrio migliore delle aliquote iva io credo che noi dovremmo ritornare a bomba anche su questa proposta inoltre credete nella nostra autonomia questa operazione degli asili è una delle poche cose che noi possiamo concretamente realizzare in poco tempo non inventatevi cose astruse date i soldi ai comuni poi decidiamo noi se ci servono per pagare lo stipendio delle maestre se ci servono per aprire un asilo nido in più o se ci servono per azzare le teriffe l'Italia è molto diversa da questo punto di vista e non facciamo investimenti che poi rimangono sulla carta e che non producono quel cambiamento che serve che nel nostro caso che in questo caso significa dare una mano alla natalità che è un grande problema strutturale nel nostro paese e inoltre date dignità ai sindaci Giorgio ha rilanciato in apertura questa proposta che nasce da Ali il primo firmatario insieme a Misiani e Mancini ci sono tanti parlamentari nostri che l'hanno votata non è dignitoso chiedere a un sindaco di fare il sindaco senza neanche prendere 1500 euro netti al mese è molto semplice non chiediamo di aumentare l'indenità dei sindaci noi chiediamo di utilizzare anzi anche se ce lo pagheremo noi come comune abbiamo tagliato i parlamentari dimostriamo che quello non era un taglio alla democrazia se crediamo nella buona politica e nella democrazia riequilibriamo il rapporto tra parlamentari e amministratori diamo dignità e la possibilità ai sindaci dei piccoli comuni che sono quasi dei piccoli eroi dei volontari di poter svolgere quel ruolo altrimenti non ne troveremo più o la politica la faranno nei piccoli comuni in particolar modo soltanto i pensionati con un'ottima pensione o coloro che se lo possono permettere e fatesi riformare il paese noi siamo fermi al referendum che abbiamo perso non possiamo né continuare a dire alla gente avete sbagliato quella volta che avete votato no ormai è andata e non possiamo neanche continuare a far finta di nulla in una confusione generale aiutateci ad aggregare i comuni non dall'alto ma autonomamente dal basso incentivando le unioni incentivando le fusioni in un disegno nazionale aiutateci a fare un tagliandala del rio perché le province così come sono non funzionano dobbiamo fare diventare davvero casa dei comuni e luogo di semplificazione amministrativa visto che sono come dire organo dove stanno i sindaci non si capisce perché oltre ai consigli provinciali e all'assemblea dei sindaci dobbiamo avere gliato o gliata ad esempio non si capisce qual è il motivo e al tempo stesso sulle regioni non voglio scendere sul tema dell'autonomia ma è evidente che c'è un problema di fondo tu non puoi fare l'autonomia pensando a tre regioni in Italia non funziona e allora se il tema dell'autonomia è un tema nazionale deve riguardare tutto il paese ma se deve riguardare tutto il paese non possiamo avere regioni troppo piccole e se non possiamo avere regioni troppo piccole non possiamo neanche avere regioni che creano un nuovo centralismo regionale perché noi siamo per l'autonomia contro i centralismi che siano statali o regionali allora facciamo diventare questa occasione che abbiamo anche una grande occasione di riforma del paese noi Nicola come vedi ci siamo siamo una grande energia locale a tua disposizione ed è l'Italia non disperdiamola perché sarebbe davvero un grande peccato buon lavoro a ognuno di noi ok adesso dobbiamo trovare un po' il ritmo però perché sennò andiamo stasera alle 8 tocca a Valentina Angelucci che è assessora di Luco dei Marsi Valentina 5 ok 4 bravo garantisco che sarò nei 5 minuti alla salve a tutti sono Valentina Angelucci assessora al comune di Luco dei Marsi storie comuni la nostra assemblea nazionale dei sindaci e degli amministratori credo che debba essere non un incontro dovuto e scontato ma piuttosto un momento di lavoro e di lotta io credo alla politica alla politica con la P maiuscola a una politica che ha bisogno di partiti e non di comitati elettorali e che soprattutto ha bisogno di amministratori capaci la mia esperienza di assessore in un comune di poco più di 5.000 abitanti e la mia esperienza politica e di vita mi portano a dire che la passione i valori e le lotte debbo vivere nell'azione quotidiana nella comunità politica nell'organizzazione e nella squadra naturalmente coniugando queste mie riflessioni al mio partito il partito democratico alla sua rinascita alla sua penetrazione dei gangli sociali alla peculiarità di voler tornare ad essere lo strumento di proposta e di lotta per la realizzazione di una società più giusta e a misura d'uomo al fianco dei più deboli la mia generazione purtroppo finora non ha avuto un grande feeling con la politica e si avvertono tutte le conseguenze del suo mancato apporto generazionale alla vita pubblica da giovanissima ho vissuto sulla mia pelle la rivolta popolare nel mio paese contro la torcia al plasma e la ditare lo straniero migrante come il pericolo e il nemico vi parlo di queste esperienze perché in quelle occasioni ho capito come le narrazioni verosimili che quindi non sono vere ma che accarezzano il sentimento popolare possono essere utilizzate contro i veri interessi delle classi popolari e contro l'edificazione di una società migliore da questi fenomeni populistici è nato il mio impegno il mio impegno civile e politico a partire dai saldi valori che mi sono stati tramandati dalla mia famiglia e nell'organizzazione di volontariato e nella vita di partito e si è concretizzato nel 2017 con la tornata elettorale in cui sono stata candidata eletta e diventata assessore con la proposta politica Luco Bene Comune quella proposta politica ha riconquistato la sinistra del mio paese Luco De Marzi che era ormai perduto nell'onda di una rivolta anti-immigrati con il successo della lista e la fiducia dei cittadini sono quindi pronta a svolgere le funzioni di assessore vivendo quotidianamente però le criticità insite in questo ruolo voglio ringraziare e dare il mio apprezzamento per gli sforzi del gruppo dirigente che sta facendo per avere un nuovo PD strutturato organizzato consapevole e carico di valori ma devo anche rilevare come le difficoltà e le criticità nel fare politica soprattutto nell'amministrare in mancanza di precisi riferimenti politici solo con la buona volontà e con la passione purtroppo non si riesce ad esprimere quella carica rivoluzionaria necessaria al cambiamento vero è necessario abbattere non solo la concezione dell'uomo solo al comando ma anche quella che io ho definito la sindrome dell'amministratore eletto dal popolo la sindrome che induce molto spesso a voler il rapporto diretto con gli amministrati spungendo quindi alla costruzione quotidiana faticosa delle risposte da dare in maniera condivisa e non populistica tenendo sempre conto delle complessità questa mia passione mi ha portato inoltre a candidarmi sia nelle elezioni regionali dell'Abruzzo sia in quella della provincia vi racconto queste esperienze perché per rimarcare innanzitutto l'onore di essere stata semplicemente candidata ma anche per evidenziare come il degrado politico in cui viviamo passi anche attraverso una concezione personalistica della politica in cui all'impegno politico deve corrispondere necessariamente un'elezione e l'impegno sia funzionale ad un mero calcolo di interesse e tornaconti più o meno particolari come se il fine ultimo di una battaglia politica si misuri unicamente se il candidato consegue l'elezione forse sarò di vecchia mentalità ma io considero che la battaglia politica e il suo valore travarica gli interessi delle singole persone anzi ritengo che debba essere il modo principale per costruire quella società valoriale che fa differenza del costruire un mondo in cui la felicità non debba essere legata alla discriminazione e allo sfruttamento vorrei concludere con una citazione con una parola che mi è rimasta in mente che dice veniamo da lontano e andiamo lontano naturalmente ciò sarà sempre più vero se sapremmo costruire con la guida del nostro segretario Zingaretti e del nuovo gruppo dirigente per ottenere la giusta sintesi valori utopia sensibilità territori opportunità e squadra in un humus unitario della costituente delle idee solo se sapremo pensare al bene comune al PD come comunità inclusiva solidale competente forti di plurale di sensibilità solo se avremo consapevolezza che in una comunità si sta con lealtà con responsabilità e generosità tenendo sempre presente che l'unità va sempre praticata la nostra comunità deve essere la casa delle pari dignità e dell'impegno politico dovrà essere scevra da meri interessi personali e localistici e così che si possa essere sempre riconosciuti come forza credibile popolare pienamente inserita nella vita quotidiana e al tempo stesso capace di sapere esprimere un governo giusto al servizio delle classi popolari e del bene comune grazie brava Valentina tocca a Marco Bussone che è il presidente dell'unione nazionale dei comuni enti e comunità montane grazie buongiorno a tutti vedi segretario non solo nelle aree urbane non solo nelle città abbiamo vinto anche nei territori nelle aree interne nelle aree rurali e montane del paese dove la Lega ha fatto il 40-50% i nostri sindaci hanno vinto perché hanno dimostrato che il loro progetto per quei territori il loro progetto di valorizzazione di quelle aree era vincente ma anche perché il partito con la scorsa legislatura quando eravamo al governo la legge sui piccoli comuni 158 l'ha fatta ha fatto la legge 221 sulla green economy ha fatto un testo unico forestale per dire 11 milioni di ettari del paese il 33% le nostre aree montane devono essere valorizzate perché lì non c'è il deserto l'abbiamo fatta la strategia per le aree interne l'abbiamo finanziata in diverse leggi di bilancio poi quando è arrivato un'altra maggioranza non è più stata finanziata ed è stata smontata 72 aree del paese che hanno più di un miliardo di euro di investimenti ferme perché qualcuno ha deciso di fermarle dando 900 milioni di euro un po' a tutti per fare un po' di cose un po' di asfalto e un po' di porfido che è quello che non serve nei nostri comuni e nei nostri territori Giorgio per dare sviluppo ai posti di lavoro nelle nostre aree montane la metà del paese abbiamo 200 comuni senza un negozio senza un esercizio commerciale senza un bar abbiamo 1200 comuni guardo Camilla di Fos di Novo dove le linee telefoniche ancora non prendono e la banda ultralarga è un sogno perché il progetto sta andando troppo a rilento e i telefoni non prendono su questo io credo che il nostro partito debba spendersi per dare risposte ai sindaci che sono anche in un comune di 100 abitanti anche in un comune da 55 abitanti come abbiamo in Piemonte sono ancora il fulcro delle politiche di sviluppo e dei servizi chiaro che sulla riorganizzazione delle unioni la legge 56 dobbiamo investire e guardo Antonio per il lavoro che stiamo facendo insieme per dire che la legge 56 era un punto di partenza rimasto incompiuto su cui dobbiamo intervenire per migliorarla per capire quante e cosa fanno le province forse non 116 come avevamo forse non con le stesse funzioni forse 8.000 comuni che imparano a lavorare insieme i grandi e i piccoli quando abbiamo semplificato troppo che i piccoli comuni dovevano lavorare insieme solo perché avevano meno di 3.000 abitanti non dicendo che invece devono lavorare insieme anche se hanno più di 3.000 abitanti perché in quella forza e in quell'ambito ottimale sta la capacità di sviluppo e anche la forza di un partito che esprime amministratori che sanno guidare percorsi di sviluppo e allora i comuni da 80 abitanti non sono come dice qualcuno e come dice bene la legge 158 da cancellare perché sono piccoli inutili e pieni di gente che non sa dove andare che non è andata via quando la Fiat li prendeva come metri lineari e quando dai nostri territori ancora negli ultimi decenni lo spopolamento ha comportato marginalizzazione ha comportato povertà ha comportato mancanza di veduta e mancanza di visione noi abbiamo contrastato quel fenomeno e i nostri sindaci che hanno vinto hanno dato le risposte corrette vedete io spero e mi auguro insieme a voi che il partito sia un luogo di formazione come lo sono le nostre associazioni e sia per i sindaci un punto di riferimento i sindaci stessi che abbiano la tessera che siano progressisti di area siano sono il punto di riferimento e siano ascoltati dal partito non solo con le grandi città ma insieme e questo è il patto vado brevemente a concludere questo è il patto che le nostre associazioni propongono e che il partito credo che possa assolutamente spondare e garantire un patto fra le aree urbane dove Bergamo Brescia piuttosto che Salerno o le altre città cosiddette del fondo valle dei fondi valle siano in piena in piena unione con le aree montane e rurali retrostanti perché nella sfida climatica nella sfida del cambiamento climatico nel contrastare quanto sta succedendo e anche nel garantire innovazione e percorsi di sviluppo digitalizzati sta insieme la grande realtà urbana con i piccoli comuni e con le valli alpine appenniniche in questo senso noi siamo protagonisti di un percorso di coesione e di democrazia in questo contrastiamo e abbiamo detto attenzione quando è stato deciso di ridurre il numero dei parlamentari perché l'impatto di questa riduzione è sui nostri territori dove avere meno parlamentari vuol dire avere meno democrazia e meno capacità di esprimerci perché il baricentro sarà sempre più verso le aree urbane allora lì bisogna recuperare un patto nuovo su questo io credo che dobbiamo consumare anche le nostre discussioni e le nostre assemblee non soltanto attorcigliandoci a questioni burocratiche non soltanto attorcigliandoci quanti risorse in più quante in meno ma dove sta la capacità decisionale la capacità impositiva fiscale quanto i nostri piccoli comuni sono in grado di lavorare insieme perché l'articolo 13 della 158 lo sancisce non da soli si fa lo sviluppo in un'area montana delle Alpi e dell'Appennino ma insieme insieme tra sindaci che sanno confrontarsi e sono uniti una forza che contrasta spopolamento abbandono e anche erosione e le grandi questioni nazionali che riguardano non da ultimo il dissesto idrogeologico il dissesto idrogeologico degli ultimi giorni Genova e non solo nasce perché l'abbandono è stato consentito e non sono stati approntati gli adeguati strumenti Giorgio su questo io chiedo che il partito sia con noi con le nostre associazioni protagoniste di un pezzo di futuro grazie grazie Francesca Broggi sindaca di Ponsacco si prepara Agnassi buonasera a tutti grazie grazie al mio partito al nostro segretario per aver organizzato questo importante appuntamento che rimette al centro i territori i sindaci le comunità locali sono sindaca al secondo mandato di un piccolo comune in provincia di Pisa il comune di Ponsacco che conta circa 15.500 abitanti e sono stata eletta recentemente coordinatrice del Lanci Giovanni Toscana e quindi mi sento di portare qui anche la voce dei tanti amministratori toscani dei tanti sindaci toscani under 35 che rappresentano in Toscana l'8% degli amministratori della mia regione un numero che è sicuramente significativo ma che in realtà ci racconta anche la distanza che oggi c'è e che persiste fra i giovani e la politica certo questa racconta la storia di una parte dei giovani di quei giovani che nella politica invece ancora si credono che reputano la politica come lo strumento ideale per poter cambiare le cose e rispondere alle loro esigenze ai loro bisogni eppure c'è un'altra parte dei giovani i tantissimi ragazzi italiani che in realtà sono sfiduciati nei partiti che hanno sfiducia nella politica e noi come partito democratico credo che dobbiamo concentrarci proprio su di loro dobbiamo tornare a parlare di loro e a parlare e a parlare con loro e gli studi ci dicono che questi giovani quelli disaffezionati nei confronti della politica rappresentano in realtà il 40% del totale quindi appunto un numero considerevole i giovani oggi hanno sentono la necessità e il bisogno di poter dare un contributo al proprio paese e hanno bisogno di risposte per quanto riguarda la loro autonomia la condizione abitativa il lavoro ecco su questo dico tutto questo perché in realtà nei territori abbiamo visto che i sindaci e gli amministratori locali rappresentano anche un anello di congiungimento di collegamento non solo con fasce eterogenee della popolazione ma anche con i giovani che poi siamo riusciti a coinvolgere a far partecipare che poi si sono anche candidati nelle nostre liste e allora io dico questo che i comuni e gli amministratori italiani hanno dimostrato di essere un elemento importante e portante del sistema democratico italiano lo hanno raccontato molti sindaci prima di me io posso raccontare la storia del mio comune delle ultime elezioni comunali a Ponzacco dove nello stesso giorno noi abbiamo visto una discrepanza enorme fra il dato molto negativo per il centro-sinistra delle europee che è stato poi completamente ribaltato a livello locale abbiamo recuperato circa 20 punti percentuali e siamo riusciti a convincere un elettore su quattro che a livello europeo aveva votato centro-destra questo non l'abbiamo fatto solo noi ma lo hanno fatto è la storia di molti moltissimi sindaci di molti comuni e ci siamo riusciti perché abbiamo raccontato alla nostra comunità abbiamo vinto su una proposta di città su un progetto di città abbiamo dimostrato che quando la politica è in grado di rispondere ai bisogni delle persone che quando la politica non spiega perché non si possono cambiare le cose ma racconta e dimostra che la società può essere cambiata che si possono dare risposte ai bisogni della nostra gente allora noi vinciamo e là si dimostra tutta la debolezza della proposta politica populista e demagogica e guardate che io come in molti comuni sono riuscita a vincere nonostante una situazione economica pesante nonostante i due maggiori settori trainanti dell'economia locale della mia città l'edilizia e il mobile abbiano subito una profonda crisi e nonostante ci sia stato uno spostamento di massa di popolazione straniera e rom in un immobile privato della mia città e questo è l'ultimo punto che io vorrei toccare e raccontare anche qui in questa assemblea così importante noi a Ponzacco abbiamo un immobile un immobile privato molto importante il cui imprenditore che è stato plurindagato anche per mafia e recentemente messo agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta ha deciso di affittare a numerose famiglie rom provenienti dai campi rom smantellati e delle città vicine e sapete chi è che ha smantellato quei campi rom sono state le amministrazioni leghiste di quelle città che hanno stanziato numerosi soldi dei propri bilanci comunali e che hanno erogato a fondo perduto a queste famiglie per convincerle a lasciare questi campi poi si sono fatti la foto sulle ruspe hanno raccontato che questi campi li hanno sgomberati con le ruspe in realtà li hanno sgomberati attraverso l'erogazione di fondi pubblici importanti senza preoccuparsi minimamente della futura ricollocazione di queste persone il risultato è stato uno scaricabalire completo da una città alla città vicina dove il rischio in particolare la mia città è stata quella della creazione di un ghetto con tutti i problemi legati alla ghettizzazione delle persone ecco noi siamo riusciti a vincere nonostante la lega locale abbia fatto di questo tema un cavallo di battaglia e questo significa che là dove c'è una proposta politica concreta vera un progetto di città noi riusciamo a vincere un discorso impegnato sui muri e sulla paura l'ultima richiesta e l'ultimo punto che io vorrei toccare è proprio appunto l'inizio del mio discorso le esigenze dei giovani noi riusciremo a ricoinvolgerli se torneremo a parlare di loro e con loro in maniera continuativa nel tempo a preoccuparsi di loro e a guardarli come una vera opportunità per il nostro paese e allora ci sono temi che già in questa manovra di bilancio verranno toccati che non possiamo più rimandare oltre come gli investimenti sull'ambiente sull'economia sostenibile allo stesso modo noi dobbiamo puntare se vogliamo essere un paese all'avanguardia sull'innovazione e l'innovazione tecnologica la digitalizzazione sono ambiti che hanno profondamente bisogno delle energie e delle risorse giovanili so che è molto difficile governare l'ho approvato nel mio piccolo sulla mia pelle ma so anche che la speranza e il futuro dell'Italia siamo noi il nostro partito e quindi io al mio partito e anche al governo chiedo di tornare a guardare soprattutto ai giovani come un'opportunità come una speranza perché solo così saremo in grado di guardare con forza al futuro del nostro paese grazie grazie Nicola segretario che hai voluto questo momento questa assise devo dire che la mia frequentazione insomma con la politica è talmente datata che faccio fatica anche nel gioco del pendolo tra l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione e vorrei dare a questa assise come dire quel sussulto di speranza che tutti noi ci auguriamo io faccio il sindaco da i governi in sequenza sono stato rieletto nel 2016 quando li abbiamo presi invece anche l'amministrativa da tutte le parti sono stato sindaco con i governi Berlusconi Monti Letta Renzi Gentiloni Conte 1 non si è aperto il Conte 2 tecnicamente ho vissuto le fasi di trattativa per ogni legge di bilancio ogni manovra con l'Anci strutturalmente non è mai cambiato niente da un punto di vista strutturale dell'architettura istituzionale dei rapporti tra sindaci e livello centrale del paese e strutturalmente è anche cambiato molto poco nel rapporto tra la classe dirigente diffuse che abbiamo nel paese e livello centrale della classe dirigente del mio partito questi sono otto anni quindi adesso ci accingiamo l'assise di oggi è convocata sul tema una nuova stagione politica un nuovo protagonismo dei sindaci banco di prova la legge la manovra non è così non è così perché il perimetro è ristretto perché noi ci siamo assunti la responsabilità di salvare il paese e sappiamo che sì abbiamo avviato un lavoro importante stiamo salvando il paese ma il banco di prova è quello che ci sarà dopo la manovra perché il perimetro è ristretto tra l'altro da questo punto di vista ancora noi una volta ossessionati quasi psicologicamente ma giustamente da un punto di vista morale politico dal senso di responsabilità dal mio punto di vista se la guardate oggi abbiamo persino sottovalutato l'idea invece di sottolineare il disastro dei conti del papete quasi che oggi noi siamo qui a dire a Misiani e nel gruppo di lavoro si può fare questo non c'è spazio noi abbiamo ripreso sto paese distrutto perché la manovra che Tri aveva nel cassetto prevedeva se non sbaglio 14 miliardi di tagli e noi questo elemento non l'abbiamo enfatizzato tant'è che oggi siamo qui a dire sì si poteva fare di più quindi perché faccio questa riflessione perché il banco di prova non è tanto la manovra sì riusciremo ad ottenere lì il fondo I mutasi i fondi il fondo di credito di dubita esigibilità eccetera eccetera però il banco di prova adesso è culturale e sì Giorgio lo ha detto oggi lo statuto questa assemblea il cammino che faremo però è stato detto anche da tutti adesso non è che bisogna citare Calvino le città invisibili ogni città riceve la forma dal deserto a cui si oppone noi ci siamo opposti al deserto dell'odio della paura e abbiamo vinto abbiamo vinto perché abbiamo messo in campo nelle nostre comunità un progetto di città un'idea di paese un'idea di comunità non perché abbiamo fatto alleanze tattiche non perché abbiamo trovato la convenienza di allargare perché nei comuni non allarghi niente se non hai qualcosa da dire se non vai a prendere dei temi allora il banco di prova per noi tutti è capire come questa classe dirigente diffusa che abbiamo nel paese concorre o meno al profilo identitario del partito ne abbiamo parlato poco forse oggi climate change global warming c'è una domanda enorme che tra l'altro è antisovranista perché un ragazzo non può essere sovranista non può avere la nostalgia di qualcosa che non ha conosciuto a cui manca un'offerta politica se diciamo 5 stelle ti viene in mente il reddito di cittadinanza immigrazione lega e se diciamo PD sì noi facciamo fatica a dire cuneo fiscale che è il punto da cui ripartiamo però come dire il banco di prova di un salto di qualità nel riconoscimento di una classe dirigente diffusa è nella misura in cui questa cioè noi queste comunità concorrono alla costruzione di un profilo identitario del partito del dirci chi siamo perché Nicola lo sa bene fa l'amministratore cioè non è che tutte le volte ci può essere il riconoscimento quasi patologico io mi sembro ormai in una psicoterapia collettiva veniamo facciamo le assise quanto siete importanti i sindaci eccetera eccetera poi torniamo mettiamo lì dei punti dei temi e però poi ci sono le grandi questioni nazionali dove c'è un'intelligenza nazionale che perde le europee e noi torniamo a vincere nelle comunità perché abbiamo qualcosa da dire su un'idea di comunità non perché abbiamo chiuso due buche in più o in meno ecco allora il tema è questo il banco di prova per me viene dopo la manovra viene dopo la manovra perché la manovra è un campo troppo ristretto per misurarci e guardate che noi abbiamo sottratto il terreno dell'odio perché abbiamo capito che ad esempio per citarne una la filiera in un paese che si chiama Italia mollo nel Mediterraneo dei driver culturali insieme alla tecnologia pensata al tema della contemporaneità come interpretato da Berlino a Londra la tecnologia e il paesaggio i beni artistici aprono delle frontiere di driver economici che oggi solo oggi in Italia dove non abbiamo investito producono 265 miliardi di contributo al PIL il 17% quella roba lì parla a quei ragazzi comincia a dire chi sei qual è il tuo profilo identitario io non ho tanto da aggiungere perché è stato detto tanto l'ha detto Antonio l'ha detto Matteo però un profilo politico identitario oggi ha bisogno di questo contributo in modo definitivo in modo non casuale e devo dire che c'è un clima anche diverso tra noi perché a me è capitato raramente raramente di avere un luogo strutturato dove parli con un pezzo del tuo governo quindi Nicola questo è quello che sta succedendo e finisco col dire anche qui quanta retorica è l'ultima volta è l'ultimo treno ma o facciamo il salto adesso o non è che non ci crede più nessuno perché noi non avremo un profilo politico perché affidarlo alla sintesi del pluralismo delle correnti pluralismo delle correnti non sia l'alibi al liderismo autoreferenziale perché c'è un resto del mondo dove noi siamo scissi la scissione più forte che c'è non è quella di Renzi è quella tra noi e una società civile ricca dove i sindaci ci sono e la classe dirigente nazionale a volte non c'è allora non scambiamo il pluralismo necessario in un grande partito quello americano no? Non scambiamo il pluralismo come dire necessario delle dialettiche dei profili con come dire l'alibi per non costruire un profilo identitario che si arricchisce e si costruisce si nutre dal tessuto vivo dei sindaci tutto qua poi ci sono quattro temi li cito al volo su cui misurare ecco il banco di prova l'autonomia è stato detto io non entro nella puntuale perché ce ne sono l'autonomia i comuni sono l'istituzione più antica di questo paese poi le signorie cioè le province non ci sia un neocentralismo regionale perché non tiene nella cultura di questo paese oltre che nei servizi che dai negli asili per quello abbiamo detto concentrate non sappiamo leggere i contributi che diamo tra i 033 l'Italia è diversa concentrate allora l'autonomia è il primo terreno su cui si misura questo nuovo salto autonomia organizzativa fiscale ed investimento chiedono i comuni in cambio nel rispetto degli equilibri di bilancio però questo nella bossa che ha il ministro boccia ci deve essere scritto in eretto questo è il punto poi da lì declineremo tutto il resto una grande agenda urbana il lavoro bene il reddito di cittadinanza la dico banalizzandola ma cosa aspettiamo a fare la casa di cittadinanza se vogliamo essere riconosciuti il 77% degli italiani vive in condomini che è stato costruito tra gli anni 50 e gli anni 80 se prendete la cartina dell'Italia e guardate le macchie di rosso sulle aree sismiche c'è quasi tutto il paese siete convinti che l'eco bonus o il sisma bonus funzionino se non si cambia il testo unico dell'edilizia che è del 2001 ed è fatto ed è stato fatto quando c'era la bolla immobiliare e noi parliamo di rigenerazione urbana e climate change allora questa roba qui è una roba da mettere in agenda politica l'agenda urbana è la casa gli italiani è la casa la messa in sicurezza terza questione pizzico 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 Nicola di demagogia io sono riuscito a farmi ridare un pezzo del mio territorio che devo infrastrutturare dal punto di vista del sistema idraulico fognario eccetera tra lungomare e il centro storico dall'agenzia del demanio perché a un certo punto dopo 55 riunioni all'agenzia del demanio ho dovuto filmare col telefonino i soggetti che mi avrebbero fatto tornare a casa dicendo allora com'è andata guardateli sentite cosa dicono perché io non ce la faccio più allora pizzico di demagogia non lasciamo solo alla demagogia senza senso il fatto che vanno smantellate delle centrali tecnocratiche che non riusciamo a capire a chi servono la cassa depositi e prestiti mette a disposizione come dire i fondi che ha per progetti di rigenerazione urbana per fare Ammerby Ammerby è un quartiere di Stoccolma dove abitano in 20.000 e lavorano in 10.000 il sarcasmo della classe dirigente nazionale quasi ride quando io cito il fatto che lo sciacquone individuale del bagno di ciascuno concorre all'autosufficienza energetica di quel quartiere il problema è che lì l'hanno fatto e noi abbiamo il testo unico dell'edilista che ti blocca su stato di diritto è stato di fatto e se viene un terremoto viene giù tutto allora agenda urbana autonomia organizzativa le grandi centrali tecnocratiche l'ultima l'abbiamo detta tutti se qualcuno di noi non so perché forse perché ha letto Rodari forse perché è nato cresciuto in un quartiere forse perché ha creduto a Calvino forse perché non lo so qui non c'è il tema dell'indennità dei sindaci perché nessuno di noi fa sto lavoro per l'indennità io come voi non mi pago le assicurazioni per gli avvocati che devo pagare ceglio tutte corte dei conti procura tar ceglio tutte non basta allora non cedere alla demagogia andare a conquistare i terreni su cui noi siamo scappati l'ambiente la transizione ecologica dell'economia quello vuol dire mettere in campo un profilo identitario non essere subalterni all'idea di ammazzare la politica fino al punto che chiunque in un'istituzione quasi quasi spreca e se va bene ruba non è questione di indennità dei sindaci di dignità delle istituzioni di questo paese tra cui quelle comunali ma io trovo io non penso mica a me stesso io trovo umiliante il fatto che quando magari finisco di fare il sindaco devo fare due anni di quarantena due anni di quarantena mi devo spurgare e nel frattempo continuano i processi che magari ho ereditato dalle amministrazioni precedenti e poi c'è la Lega che si mette in campo il tema dell'abuso d'ufficio cosa aspettiamo a tirare su sta schiena io non vorrei che questo fosse l'ultimo treno di questa psicoterapia di gruppo perché non ci crede più nessuno non ci crede il paese ma state attenti che cominciamo a non crederci più neanche noi avevi promesso che ci davi un po' di speranza però Carlo Marino sindaco di Casera mi corre l'obbligo di richiamare i colleghi alla sintesi parlare parlare dopo che ha parlato dei sintesi importanti ma soprattutto il mio presidente essendo anch'io presidente di Anci Campania è per me diciamo complicato però parto prima con due battute una me la rubo da Matteo Ricci lui ha la fortuna che i bambini i figli io ho quattro figlie cercano di parlarci e di incontrarlo perché sono emozionati che è il sindaco il primo contatto a me parlano del meteo che è il tema su cui la mattina dovrò decidere se è tutta la rete scolastica se decide se deve andare o meno a scuola secondo tema invece Antonio De Cara ha utilizzato la parola ascoltare io aggiungerei a questa parola aiutare oggi c'è una grande sfida noi dobbiamo ringraziare il nostro segretario e il partito democratico che ci ha messo insieme che ha costruito oggi l'abbiamo utilizzata tante volte oggi in ogni incontro abbiamo utilizzato la parola comunità e l'abbiamo costruita oggi con i tanti impegni che ognuno di noi ha istituzionali per immaginare come aiutare il partito democratico a diventare e ad essere quello che è la prima guida nazionale la prima guida delle nostre comunità di quella che può dare i valori l'etica la morale alle nostre comunità e come aiutarle come costruire quel cammino anche comune che deve mettere insieme l'abbiamo detto quella che è la governanza amministrativa locale con quella che è invece la guida politica del paese e la sfida è proprio quella si è utilizzata la parola innovazione noi dobbiamo mettere al centro innanzitutto l'innovazione culturale e sociale poi sicuramente anche quella tecnologica delle nostre amministrazioni quella del miglioramento sicuramente delle nostre best practice di quello che è poi il concetto e ritorno al tema del rapporto PD amministrazioni locali amministratori locali di more together cioè stare insieme costruire una proposta comune si è parlato di idea io parlerei di visione la visione è la strategia è il mondo dove noi vogliamo portare le nostre comunità dove vogliamo portare la nostra gente dove vogliamo portare i nostri cittadini e allora lo dobbiamo fare insieme dobbiamo farlo costruendo la proposta del Partito Democratico sui nostri territori non può essere la proposta dell'amministrazione deve essere la guida politica perché noi abbiamo la capacità e le competenze per poterla costruire e allora mettiamo al centro un primo elemento che è l'orgoglio noi dobbiamo innanzitutto essere orgogliosi di essere il Partito Democratico orgogliosi di costruire per le nostre comunità delle proposte politiche che hanno soprattutto una valenza di coesione sociale che mettono al centro sì la competitività ma che mettono al centro anche le debolezze i deboti i disagiati i meno abbietti e la sfida è proprio quella quella di far correre le nostre capacità ma anche non dimenticare i più deboli questo è il Partito Democratico questa è l'assemblea nazionale dei sindici e degli amministratori che vogliono costruire un modello deve essere un modello che metta al centro i nostri valori la nostra etica la nostra creatività le nostre competenze ma anche la voglia di cambiamento un cammino nuovo ma con i piedi per terra partendo dai nostri valori non dimenticando la nostra etica non dimenticando la nostra morale ma capendo anche però e vado al termine così mi gioco esattamente i miei i miei cinque minuti che assolutamente non possiamo andare avanti più con questo testo unico degli enti locali che è obsoleto che è superato che è superato da quella che è la struttura della semplificazione amministrativa di quello che deve essere la guida non possiamo orientare strategicamente i nostri sviluppi i nostri territori e poi abbiamo invece norme che non ci mettono in condizione come amministratori locali di guidare di costruire i processi sia assolutamente alla costruzione della strategia unica politica ma questo deve essere collegato una strategia amministrativa e per fare questo dobbiamo avere i contenuti dobbiamo avere le occasioni amministrative per poterle costruire e solo attraverso questo percorso sinergico tra quella che è la visione politica tra quella che è l'azione di governance tra quella che è oggi il trasferimento fra di noi di best practice io farei diventare questa sede un'assemblea permanente delle best practice delle azioni di governo delle amministrazioni locali per trasferirci le guide e i processi di sviluppo può mettere insieme anche il paese noi io rappresento l'ancicampania noi vogliamo aiutare il paese il paese è sì diverso ma noi lo dobbiamo costruire come un'unica grande comunità che si chiama Italia e che si chiama Partito Democratico quella è la sfida nelle diversità metterci insieme aiutare attraverso le diversità il paese noi non abbiamo necessità di essere aiutati abbiamo necessità di aiutare la costruzione di un'unica comunità che si chiama Partito Democratico e Italia e questo si può fare soltanto attraverso quelli che sono i sogni dei ragazzi e cioè immaginare che attraverso quella che è stata il nostro l'hanno raccontato e narrato bene già i miei colleghi quelli che erano i nostri sogni di ragazzi di come cambiare il modello sociale di come cambiare la vita di come poter cambiare la voglia di qualità della vita e della vivibilità delle nostre comunità diventi non solo un sogno ma diventi un'occasione che si chiama Partito Democratico bravo allora tocca a Elena Piastra sindaca di Settimo Nese però io voglio ringraziare i sindaci di Pontassieve e di Teora che hanno rinunciato al loro intervento per consentirci di finire in orario grazie davvero buonasera a tutti buonasera segretario e grazie grazie per l'ascolto di oggi perché lo hanno detto tutti e lo ribadisco anch'io per noi la possibilità di raccontare come sia stato possibile vincere nei territori la mia città Settimo ha visto il passaggio di 40.000 migranti negli ultimi 9 anni noi abbiamo 48.000 abitanti e la Lega ha fatto uno dei peggiori risultati del Nord Italia e la sinistra era anche divisa e abbiamo peggio di così non si poteva fare e però ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta per quel sogno che hanno raccontato tutti i sindaci prima perché perché alla fine il sindaco è un animale assai strano lo raccontava prima Antonio è un po' topografo perché impari al mattino in base alle strade a sapere in base al tempo che hai qual è la strada migliore da fare perché valuti quante persone ti fermeranno se fai un vicolo invece che l'altro impari a sapere che non vedrai i tuoi figli se non al mattino quando li vedi dormire nel letto e alla sera quando torni a casa li ritrovi nel letto a dormire è un po' avvocato perché settimana scorsa ero a Mantua da Mattia che si ricandida per dare un po' di sostegno e io che sono l'ultima arrivata perché sono sindaco da quattro mesi insomma cinque mesi mi diceva ma non hai ancora neanche un avviso di garanzia no? per ora no eeeh vedrai vedrai e si guardavano tutti in un altro e dicevano no ma è impossibile vedrai vedrai come sarà poi la prima volta quando vedrai arrivare il primo avviso e io cominciavo a sentirmi a sentire il respiro mancare poi ci convinciamo che i mulini a vento non esistono all'inizio ci diciamo per tanto tempo impariamo a combattere contro i mulini a vento poi sento l'intervento di Gnassi e dicono ma in realtà siamo così tanto pazzi che ci convinciamo che manco esistono quelle difficoltà e andiamo avanti a soprattutto siamo dei disegnatori dei disegnatori che sognano il futuro di una città che spesso neanche vedono perché non ci bastano i dieci anni figuriamoci cinque noi piantiamo delle cose immaginiamo delle opere prima lo diceva Matteo il nostro codice degli appalti ci ingabbia così tanto che su qualunque opera minimo un ricorso c'è minimo se riesci a fare un appalto senza avere neanche un ricorso ti guardano e dicono ascolta come hai fatto ti chiamano ti chiamano spiegamelo io sono riuscita a chiudere adesso una gara sui parcheggi dicono ma veramente ma neanche un ricorso aspetta vengono a vedere la gara dieci anni io sogno sogno che la TAV che passa sul nostro territorio possa arrivare davvero così come avevamo previsto quindici anni fa a interrare la ferrovia nella nostra città e lo sogno non per me lo sogno perché è il modo per rendere spiegabile la TAV perché come la spieghi la TAV se non la spieghi in queste cose se non la spieghi nella ricaduta se non vai dai tuoi 50.000 cittadini a dire guardate è un territorio nel quale i treni passano costantemente con un rumore estremo passano anche non solo i treni che arriveranno ma passano intanto tutte le macerie ma quella roba lì quell'opera lì è necessaria non solo per collegare in modo veloce è necessaria per tutta la tratta perché la ricaduta le compensazioni come le avevamo chiamate allora saranno tali da garantire una miglioria di tutta la tratta nel nostro caso sarebbe stata l'interramento di un passaggio fondamentale perché la nostra città è divisa da questa cicatrice come se guardate dall'alto la carta che va da Torino praticamente a quasi Milano insomma ci sono tutte le città tagliate a metà da questi continui passaggi e poi sogno che la mia città che è una delle città più inquinate del nord Italia perché ha visto tutta l'impresa possa diventare una nuova Arus e allora comincia a dire ma allora da dove parto e copi Prato copi Mantua vedi la piantumazione poi vai a cercare le buone pratiche all'estero la settimana scorsa parlavo con il sindaco di Malmo giovanissimo mi ha raccontato qualcosa di straordinario l'azzeramento di un intero cantiere navale la ricostruzione ex novo di un'intera area perché non lo fai mi dice e io ho cominciato a pensare ma quante cose mi mancano per poter mettere insieme da sola un intero azzeramento di un'area altro che il piano rigenerazione urbana prima si parlava dell'agenda urbana altro che quello giuro accelero vado solo per titoli piano periferie l'ho detto Antonio lo riprendo riabilitazione del piano periferie piano casa lotto ter noi oggi non abbiamo parlato abbiamo un tema gli anziani abbiamo un invecchiamento della nostra popolazione con un utilizzo e un abbandono delle abitazioni in prima proprietà altissimo il piano casa deve vedere deve prevedere quel momento lì innovazione tecnologia imprese il bando Sprar per favore segretario faccia un salto a Saluzzo la Rosarno del Nord c'è una bellissima esperienza la possibilità di raccontare come a livello stagionale dal sud Italia al nord Italia ormai da più di dieci anni le persone si spostino Rosarno tutti gli anni ha cinquemila persone in più le ha accolte il sindaco ha rivinto anche lui e le accoglie lì e quindi forse è possibile stabilire una stagionalità interna al nostro paese in modo stabile a partire dalla raccolta dei primi piccoli frutti a fine aprile fino almeno all'inverno con le mele poi ci sarà un percorso intermedio ma è possibile immaginarlo io ho un bando Sprar che scade adesso dopo sei anni vorrei rinnovarlo vado via Ufficio Europa in tutti i comuni è necessario è l'unico posto dove possiamo trovare i bandi grazie grazie a tutti grazie a Nicola credo che lo percepiamo tutti e l'abbiamo sentito tutti e in particolare insieme anche a un gruppo di sindaci con cui ci siamo trovati un po' in queste settimane prima della manovra credo che lo possiamo testimoniare in maniera chiara io sono sindaco dal 2016 non mi era mai capitato di venire chiamato di essere stato chiamato per sentire un'opinione per sentire quelle che erano diciamo le linee che vivevamo sul territorio questa cosa non è scontata anche perché appunto negli ultimi anni non l'avevamo vissuta ed è qualcosa che vogliamo tenerci stretta è un nuovo approccio è un nuovo metodo abbiamo trovato molta disponibilità nella delegazione del PD al governo credo che il segretario abbia dato un mandato chiaro in questo senso e ora credo che abbiamo giustamente voluto allargare questo rapporto e questa relazione a tutti gli amministratori del PD del centro-sinistra in Italia perché qui credo che abbiamo un punto fondamentale e proviamo a porci una domanda ed è una domanda chiara prima l'avete raccontato io sono uno di quelli che non ha ancora rivinto sono al primo mandato quindi lo dirò poi se riuscirò a rivincere ma tanti amministratori del PD hanno rivinto hanno rivinto in ogni zona d'Italia tu Nicola sei stato uno dei primi diciamo ad aver rotto questo meccanismo e aver spostato voti dal voto politico al voto amministrativo e lo hanno fatto in luoghi diversi con programmi diversi con caratteristiche anche personali diverse io penso che ci sia un tratto comune che è forse il vero punto che possiamo portare al PD ed è che nelle città nel governo delle città nel contatto diretto quotidiano con i cittadini con i bisogni dei cittadini il sindaco gli amministratori locali sono in grado di focalizzare i problemi delle persone e dalla mattina alla sera il loro impegno è centrato sui problemi veri delle persone che diciamocelo non si riconoscono nel 95% del dibattito politico nazionale quando in televisione a porta a porta o a dimartedì due esponenti politici litigano fra di loro il 95% degli italiani non capisce di che cosa stanno parlando non capisce di cosa stanno discutendo mentre invece nella dinamica delle nostre città chi ti contesta o chi ti apprezza lo fa su elementi concreti che incidono sulla loro vita e allora io dico proviamo a ritarare l'agenda del PD e del governo diciamo molti dei nostri compagni di strada non è che ci stanno dando una mano soprattutto nell'esperienza di governo nel tarare l'agenda del governo sui problemi delle persone su ciò che angoscia la vita dei nostri cittadini perché diciamocelo in faccia gli anni che stiamo vivendo gli anni che stiamo vivendo sono anni inediti per questo paese la generazione di oggi le giovani generazioni di oggi sono le prime dopo decenni che vivono peggio di quelle che l'hanno preceduta noi dal dopoguerra in poi abbiamo visto di generazione in generazione un passaggio di testimone dove si stava sempre meglio la mia è la generazione di quelli presi in giro che hanno fatto le superiori pensando che poi ci fosse un futuro meraviglioso poi c'è stato il 2007 la crisi economica e lì il mondo è cambiato radicalmente e cos'è sono le nostre comunità oggi prendiamole sul piano demografico sono denatalità siamo ormai tecnicamente vicini all'estinzione in termini diciamo di demografia e al contrario di quello che qualcuno cerca di dire lo stop dell'immigrazione perché l'immigrazione rispetto a quella degli anni 90 oggi è un fenomeno marginale in termini quantitativi porta di fatto ad avere uno spopolamento delle nostre comunità noi lo vediamo già negli asili nido stiamo aumentando tantissimo quella percentuale così diversa in Italia manteniamo fissa l'offerta callano i bambini stiamo facendo dei risultati straordinari in termini di copertura demografica degli asili nido e dall'altra parte abbiamo un trend di invecchiamento della popolazione e qui lo dico anche ai nostri esponenti di governo la vera emergenza che rischia di venirci addosso è il fondo della non autosufficienza che è un tema che tocca tutte le famiglie che non tocca solo gli anziani perché quella famiglia che magari ha anche 100 euro in più in tasca ma che si trova dalla sera alla mattina ad avere un parente un anziano non autosufficiente a doversi organizzare da solo a non trovare un posto in una casa protetta quella famiglia gli cambia la vita da così a così è un'altra vita e spesso questa cosa si ripercuote in maniera devastante sulle donne perché poi diciamocelo quando ci sono problemi di questo tipo c'è una parte del nostro paese che si volta dall'altra parte e c'è un'altra parte la componente femminile che è quasi sempre costretta a farsi carico a queste situazioni e quindi ripeto lì l'aumento del fondo della non autosufficienza è un'emergenza l'età media non sta aumentando sta accelerando anche per i progressi della tecnica della salute ma questo è una grande emergenza seconda cosa lo dico anche diciamo perché ho la responsabilità diciamo delle province italiane ma abbiamo idea di che cosa sono le scuole superiori italiane abbiamo idea di che cosa sono diventate e qui diciamocelo un bel po' di responsabilità è sulle nostre spalle perché al di là del dibattito sulle province sono ormai dieci anni che non c'è una politica strutturale sulle scuole superiori italiane quei ragazzi quei ragazzi che hanno manifestato per Fridays for Future per il cambiamento climatico quando rientrano nelle loro scuole è già tanto se non gli cascano in testa è già tanto se non gli cascano in testa e fra parentesi in termini di responsabilità ai sindaci metropolitani ai presidenti di provincia diciamo c'è anche un problema diciamo di tipo penale rispetto alle situazioni di molte scuole italiane hanno dei parametri energetici diciamo allucinanti vercognosi io ho sostituito quest'anno delle caldaie a BTZ che è un combustibile diciamo che è illegale nel 50% dei paesi del mondo perché nessuno le toccava dagli anni 60 ecco allora dico nella finanziaria ci hanno detto che ci sarà una riflessione su questo ma che immagine hanno quei ragazzi e quelle ragazze dello Stato che immagine hanno della pubblica amministrazione se diciamo la loro scuola il luogo che frequentano tutti i giorni è quanto diciamo di meno innovativo e di meno sicuro ci possa ci possa essere e l'ultima cosa guardate non è una competenza che si attribuisce spesso ai sindaci però a me è capitata vi racconto un'esperienza che forse è capitata a tanti altri io sono sindaco di una città portuale una città che ha un distretto chimico importante bussa la mia porta il manager di una di queste imprese è una multinazionale e mi dice caro sindaco noi settimana prossima presentiamo un progetto un progetto di revamping del nostro impianto chimico inquineremo meno produrremo di più assumeremo 50 persone in più lo stesso progetto però lo presentiamo anche in Polonia il primo dei due che arriva ad autorizzazione si fa l'altro in dieci anni chiude e tu da quel giorno posto che il comune in quella autorizzazione non ha quasi responsabilità sei diciamo la trottola di quel progetto fra autorizzazione agenzia regionale dell'ambiente che è stata sottratta agli enti locali per fare un'agenzia fra i vigili del fuoco fra l'autorizzazione nazionale fra tutta la burocrazia che quell'investimento ha e veramente quando arrivi in fondo cioè quando hai battuto la Polonia e quindi sei anche diciamo sei anche contento e soddisfatto diciamo hai fatto zero cioè non è che qualcuno ti dà una pacca sulla spalla e ti ringrazia se invece non ce la fai tu sai già che in giro di 3-4 anni su quell'impresa lì avrai una crisi sociale e quindi ripeto il tema del lavoro dell'occupazione della lotta alla burocrazia del fatto che il nostro paese ha l'ambizione di rimanere una potenza industriale perché diciamocela non si fa redistribuzione non si fa giustizia sociale se non si cresce se non si crea lavoro se non si crea occupazione ecco penso che possa essere un altro elemento identitario del Partito Democratico in queste ore sapremo come andrà come andrà l'Umbria credo che ci sia stata grande generosità guardate una delle cose peggiori che ho sentito in questi giorni è stata diciamo cerpeggiava dietro le quinte Zingaretti ha sbagliato ad esporsi sull'Umbria cioè come se l'idea che il ruolo di un dirigente politico sia di cercare di capire dove è sicuro che si vince o dove c'è il rischio che non vada bene e metterci la faccia solo quando è sicuro di prendere gli applausi non è accettabile è un'idea della politica che dobbiamo rifugire abbiamo giocato in Umbria una partita a testa alta partendo da una situazione difficilissima la prossima partita si chiamerà Calabria e si chiamerà Emilia Romagna e chiaramente lo dico con maggior sentimento per quella che è la mia regione per quella che è la mia comunità lì ci giochiamo la parte più rilevante della nostra ripartenza perché chiaramente l'Emilia Romagna è un elemento identitario per i progressisti italiani per il centro-sinistra italiano e quindi lo dico la giornata di oggi anche il contributo degli amministratori locali è per un partito democratico che sappia parlare i problemi veri della vita delle persone e che sappia mandare un messaggio diciamo di speranza di futuro ai cittadini per il fatto che questa forza politica è quella che può cambiare in meglio le loro vite grazie Enzo Bianco sindaco ad onorem e presidente del comitato delle regioni europee anch'io come Ignassi sono stato sindaco con diversi presidenti del consiglio con Camillo Benzo Conte di Cavour con Bettino Ricasoli con Rattazzi e quindi porto il contributo della mia esperienza non ho rinunciato a parlare nonostante l'ordarda perché volevo dire un grazie dal profondo del cuore guardate il metodo non è una cosa di lontana dal merito delle questioni il fatto che il segretario del nostro partito Nicola Zingaretti sia stato qui da questa mattina ad ascoltare tutti gli interventi uno per uno a prendere nota e consentimi a non twittare sul telefono cinguettando come qualcuno di noi ogni tanto fa è un segnale di stile e con lui voglio ringraziare i ministri e i sottosegretari che hanno partecipato anche loro a questo dibattito un solo tema che è stato affrontato in alcuni interventi a partire da quello di Antonio ma anche in quello di Matteo e di altri Ignassi la questione della reputazione e della serenità dei sindaci e degli amministratori questa è una riforma Nicola che non costa e che dobbiamo affrontare mettendola tra i primi posti della gradatoria delle urgenze del paese nei giorni scorsi l'avete visto un sindaco un ex sindaco che non è del nostro colore politico mi riferisco al sindaco di Amatrice è stato incriminato per credo concorso in omicidio perché col terremoto di Amatrice sono molte alcune persone l'anno scorso un anno e mezzo fa due sindaci anche qui uno non del nostro colore politico il sindaco di Livorno Casarin e il sindaco di Senigallia Mangialardi furono incriminati perché c'era stata un'inondazione e c'erano stati dei problemi e dei disastri seri io Nicola ho avuto nella mia lunga attività di sindaco diciotto iscrizioni nel registro di indagati diciotto di questi diciasette si sono conclusi in un caso cinque giorni dopo con la richiesta di proscioglimento una sola volta il proscioglimento non è avvenuto su richiesta del pubblico ministero che aveva mandato l'avviso di garanzia ma per decisione del giudice istruttore hanno creato e abbiamo creato una fattispecie di reato dell'abuso d'ufficio io ci ho lavorato per superare la vecchia formulazione del 323 e arrivare a una nuova formulazione che ci dava un po' di serenità sapete che cosa fa l'attività legislativa qualche volta la fanno i magistrati guardate io voglio dirlo chiaramente in modo forte io non chiedo e noi non dobbiamo chiedere che ci sia una forma di garanzia o di responsabilità per l'amministratore locale che trae un vantaggio personale da un comportamento illegittimo chi fa questo deve pagare caro la sua responsabilità ma quello che è assolutamente inammissibile è che per esempio nella fattispecie dell'abuso d'ufficio e concludo rapidissimamente occorreva una volta che ci fosse la violazione di una norma o di un regolamento è vero la violazione sapete come sono inventati alcuni magistrati anche se non c'è la norma violata o il regolamento violato viene violato l'articolo 97 della Costituzione e cioè il principio di buon andamento a cui è tenuto con un amministratore dentro anche se non hai minimamente violato una norma l'altra questione quella del vantaggio patrimoniale viene considerato vantaggio patrimoniale anche il fatto che tu cerchi il consenso dei tuoi elettori perché avendo il consenso dei tuoi elettori puoi essere rieletto e quindi ne hai un vantaggio ma un sindaco se fa il suo mestiere per non avere il consenso dei suoi elettori perché quale ragione lo dovrebbe fare allora io propongo che si chieda al Presidente del Consiglio di insediare un gruppo di lavoro per seduto anche da un magistrato non ho nessuna difficoltà non per dare responsabilità ma per valutare concretamente le azioni che possono ridarci serenità viviamo e concludo viviamo in un periodo in cui l'intensità del rumore delle paure e dei rancori rischia di superare la profondità del pensiero aiutate i vostri amministratori a recuperare un po' di serenità grazie Nicola buon lavoro grazie Enzo adesso c'è un breve contributo filmato da Milano il sindaco Sala buongiorno e buon lavoro a tutti voi non riesco ad essere a Roma ma volevo lasciare un mio breve messaggio in sostanza dirvi un paio di cose la prima è questo è un passaggio delicato tutti noi lo sappiamo credo che sia giusto coinvolgere i sindaci non la farei tanto lunga ma è chiaro che in questo momento è soprattutto nelle città che si vede il cambiamento e che nuove istanze sociali avanzano alla seconda alla seconda tengo anche di più e cioè di nuovo per necessità ci si confronta oggi e va bene ma di fatto il confronto deve essere tutto l'anno e non lo dico come richiesta lo dico come offerta e cioè credo che noi sindaci vogliamo essere partecipi ancora di più dei destini del nostro paese guardate io frequento sindaci italiani e sindaci nelle grandi città del mondo e vedo le stesse cose cioè vedo in questo momento tra l'altro molta professionalità sono di parte ovvio e difendo la mia categoria ma nei sindaci nelle grandi città del mondo e molta voglia di fare la propria parte perché tutti sono consapevoli della difficoltà ecco io permettetemi di esprimere un po' questa critica spero in maniera costruttiva in molti paesi vedo i sindaci più coinvolti di quanto non siamo in Italia ma siamo qua per fare la nostra parte siamo qua con tanta buona volontà buon lavoro a tutti l'ultimo intervento è di Dario Nardella l'ultimo prima della chiusura di Nicola Zingaretti grazie buonasera a tutti voglio anch'io veramente congratularmi con chi ha organizzato promosso questa iniziativa anche per il modo in cui si è svolta faccio politica ormai da tanto tempo qualcuno a Firenze ha detto che sarei già da rottamare perché come sapete Firenze ha tante primogeniture anche terminologiche e non ricordo momenti di confronto così intensi con esponenti di governo anzi mi piacerebbe che diventasse davvero una pratica per cui esponenti di governo con gli amministratori locali in modo sistematico si confrontano per decidere per decidere per fare qui voglio dire una cosa senza alcun tipo di polemica noi non dobbiamo chiedere di essere ascoltati no io non voglio più partecipare a degli incontri del mio partito dove chiediamo di essere ascoltati gli amministratori locali e sindaci o sono una parte costitutiva fondamentale ineliminabile e insostituibile del DNA dell'identità del modo di agire del modo di pensare di un'organizzazione collettiva politica popolare come la nostra oppure non lo sono non ci sono vie di mezzo io non ho mai visto un'assemblea di parlamentari che chiedono al segretario di essere ascoltati il giorno in cui noi non ci dovremo più trovare nella condizione di chiedere di essere ascoltati dal nostro partito sarà il giorno in cui finalmente al di là delle buone intenzioni prenderà corpo l'identità di un partito nuovo dove gli amministratori locali i sindaci il territorio non sono uno dei tanti aspetti ma sono un punto centrale credo che in questo periodo ci sia bisogno ancora di più del territorio perché la società civile di questi anni in Italia non ha mai vissuto una crisi così profonda e purtroppo la classe politica che è lo specchio della società civile vive una crisi analoga ce lo dobbiamo dire questo perché se dobbiamo fare questo grande lavoro di costruzione di una nuova identità ho condiviso molto alcuni passaggi Andrea Agnassi sul fatto che il PD deve decidere che posto ha nella società italiana che ruolo vuole avere nella politica italiana allora se questo è noi dobbiamo partire da questo dato di profonda crisi sociale c'è un'insoddisfazione verso la condizione economica da parte dei nostri cittadini c'è la sensazione e il sentimento di abbandono le istituzioni sono ancora percepite molto lontane si salvano forse neanche per molto lo accennava anche Antonio De Caro si salvano le istituzioni locali perché ovviamente sono quelle con cui è un rapporto più diretto più concreto più quotidiano Robert Castel questo sociologo francese ha parlato di disaffiliazione oggi nella società italiana tutti i legami si sono rotti molti di noi hanno utilizzato la parola fiducia o sfiducia a seconda del punto di vista è diventato cruciale questo elemento della fiducia si è persa i legami nelle nostre comunità non hanno più un fondamento non c'è più collante non c'è più fiducia tra l'insegnante e lo studente tra il genitore e il figlio tra l'amministratore e l'amministrato non c'è più fiducia tra la gente di polizia municipale e il cittadino che sta per strada non c'è più fiducia tra il medico e il suo paziente e viceversa allora il nostro lavoro è un lavoro paziente faticoso irrinunciabile di ricostruzione di un senso di comunità e io credo questo noi dobbiamo veramente ripartire dai fondamenti del senso di una comunità per dare credibilità alla politica io qui vedo tre elementi chiave il primo è il territorio il territorio è il vero antidoto del populismo il territorio perché è lì che si consumano i conflitti e si trovano anche le soluzioni è lì che maturano le relazioni umane sociali è lì che prendono corpo modelli culturali innovazioni sei anni fa Papa Francesco chiama a Roma settanta sindaci di tutto il mondo a parlare dell'enciclica laudato sì cioè del cambiamento climatico e lui dice a questi sindaci io ho chiamato voi non ho chiamato i capi di Stato e di Governo non ho chiamato i ministri dell'ambiente perché so che voi siete quelli che ogni giorno si rimboccano le maniche cercano delle soluzioni ai grandi problemi globali come ad esempio quello dell'ambiente eppure il Presidente della Commissione Europea non ha mai convocato i sindaci europei per parlare di questi problemi dobbiamo aspettare il Papa che chiama i sindaci per ragionare di argomenti cruciali che hanno sì la necessità di un approccio globale ma allo stesso tempo hanno bisogno che quella visione globale possa poi trovare nella dimensione del territorio una risoluzione concreta territorio vuol dire servizi opere soggetti noi abbiamo accarezzato per troppo tempo l'illusione che si possa disintermediare tutto che i cosiddetti corpi intermedi non servano più che basta un tweet o comunque un messaggio sui social per stabilire quel rapporto con l'opinione pubblica un errore che ha fatto anche il nostro partito tutta la politica ha fatto non solo in Italia secondo punto la legalità che vuol dire anche sicurezza ce lo dobbiamo scrollare di dosso questo tabù legalità che significa quel senso di ingiustizia il cittadino matura verso l'imprenditore corrotto verso il politico che ruba verso l'evasore ma anche verso l'immigrato che non rispetta le regole se noi assumiamo davvero la legalità come un principio trasversale laddove come dice la Costituzione la legge è davvero uguale per tutti non si pone più una questione di colore della pelle di provenienza noi dobbiamo essere il partito che prende in mano la bandiera della legalità e la decliniamo in tutte le sue forme nel lavoro nelle dinamiche economiche nelle relazioni sociali e anche nel modo in cui noi gestiamo l'immigrazione perché gli immigrati sono individui devono essere trattati come tali se sbagliano come qualunque individuo dovranno essere sanzionati se non sbagliano come qualunque individuo dovranno essere sollecitati incitati promossi come la Repubblica chiede alle istituzioni nei confronti della persona e qui c'è la terza parola chiave secondo me la persona oggi la persona è ai margini di qualunque dimensione di interesse pubblico è ai margini dell'economia la persona è ai margini delle istituzioni anche ai margini della politica ripartire dalla persona vuol dire ripartire da un grande atto di fiducia verso la persona significa prendere a due mani temi come l'educazione la cultura tutti quegli strumenti che puntano all'emancipazione della persona significa anche affrontare la questione delle diseguaglianze sociali che non permettono alla persona di crescere ecco io penso che noi come sindaci e amministratori possiamo senz'altro dare un contributo fondamentale al nostro partito che non ha bisogno è stato detto né di sedute psicoterapeutiche né anche di sedativi noi abbiamo bisogno di una grande scossa di energia e questa scossa di energia la dobbiamo far crescere a partire dai territori dalle dimensioni comunitarie cogliendo un punto di cui che io ho già più volte sottolineato Nicola lo sa la questione della rappresentanza territoriale noi ci stiamo ammalando di autoreferenzialità l'ha detto bene Matteo Ricci per noi è inconcepibile l'idea l'idea di ascoltare le correnti se dobbiamo portare una delibera in giunta perché la sintesi di governo e di visione politica può avere sì nelle correnti degli stimoli ma deve avere qualcosa di più grande di più profondo non possiamo esaurire la nostra ragione d'essere in una continua e stenuante ricerca di somma e di composizione dei voleri delle varie correnti perché così noi perdiamo la nostra anima e tu come puoi bilanciare un correntismo sterile autoreferenziale semplice parti dal territorio cioè parti dal nucleo del principio della rappresentanza democratica e qui vorrei dire una cosa fuori proprio con grande chiarezza caro Nicola io lo so che ti arriveranno credo tante stanze di nostalgia proporzionalistica si sente nell'aria una delle questioni politiche centrali non nascondiamocelo sarà la legge elettorale c'è una gran voglia di proporzionalismo che è spesso alla base della frammentazione e c'è una gran voglia di conservare questa autoreferenzialità allora voglio dire una cosa al mio segretario a Nicola se tu ti batterai per mantenere la vocazione maggioritaria del nostro partito per difendere i principi di coalizione per delle leggi elettorali dove il territorio non sia un fatto marginale evitando che si facciano leggi proporzionali con liste bloccate senza preferenze magari io sarò con te perché noi dobbiamo restituire voce ai territori la politica è morta per anni di sistemi elettorali che hanno staccato il territorio dalle stanze del potere politico nazionale perché gli elettori non hanno più avuto la possibilità di inserirsi in quella dinamica che c'è tra gruppi dirigenti e corpo elettorale e lo sappiamo che è trasversale questa nostalgia di proporzionalismo perfino tra i nostri avversari di centro-destra io sono molto preoccupato di questo e credo che il nostro partito non avrebbe niente da guadagnare soprattutto se vogliamo mantenere quella logica di coalizioni vengo agli ultimi punti qualche giorno fa io ho detto pubblicamente che secondo me il nostro partito ha bisogno di un congresso rifondativo chiamiamolo come volete è stato detto più volte mi ha fatto piacere noi prima di ragionare di alleanze di strategie dobbiamo sapere qual è il nostro ruolo qual è la nostra identità prima di sceglierci compagni di viaggio dobbiamo sapere qual è la strada che noi vogliamo intraprendere su quali temi vogliamo essere un partito tra i tanti o vogliamo mantenere quella vocazione maggioritaria vogliamo essere un partito di elite e basta oppure vogliamo essere davvero un partito popolare che riprende da questo radicamento territoriale la sua ragione d'essere abbracciando temi anche innovativi a proposito della legge di bilancio e ringrazio Missiani e gli altri per lo sforzo che hanno fatto però ci sono alcune cose su cui forse è più facile dopo questa legge di bilancio dobbiamo battere la questione ambientale sui telegiornali è passata solo la plastic taxi che va pure bene perché come dire fa notizia ma noi sindaci siamo alle prese quotidianamente con i problemi legati al sistema dei rifiuti le nostre regioni sono ancora piene di discariche noi non ci vogliamo trovare sempre nelle condizioni o di dover firmare delle ordinanze per aprire delle discariche oppure di dover affrontare dei comitati cittadini perché non si riesce mai a mettere un impianto serio come si fa in tutta Europa per gestire il ciclo dei rifiuti che nel nostro paese ha i livelli di terzo mondo la questione la questione ambientale vuol dire anche fare scelte coraggiose e così anche la riforma delle autonomie un partito che parte dal territorio deve avere molto chiaro qual è il ruolo delle autonomie prendiamo l'articolo 5 della Costituzione poche parole molto chiare la Repubblica promuove le autonomie locali cioè non è che solo le riconosce ne prende atto e dov'è questo concetto di promozione nelle leggi che noi abbiamo approvato in questi anni non solo la Repubblica adegua la sua legislazione e i propri principi alle esigenze di autonomia e di decentramento non il contrario allora questo articolo 5 lo vogliamo applicare anche nei rapporti tra comuni e regioni Nicola è presidente di regione devo dire che tra i presidenti che più ha avuto sensibilità su questi temi anzi ti ringrazio ma lo devono avere tutti questa sensibilità troppe regioni hanno la pretesa di fare i grandi comuni le regioni devono fare poca e buona legislazione programmazione strategica non devono fare la gestione amministrativa che invece tocca gli amministratori locali se no non si capisce chi fa che cosa le regioni non devono fare i bandi per dare 300 euro all'associazione della bocciofila per quella se ne occuperanno gli amministratori locali a fare i bandi per dare 300 euro all'associazione culturale una riforma delle autonomie dove è chiaro chi fa che cosa e dove i comuni non sono stritolati da un lato da questa egemonia regionale per la quale le regioni si dimenticano i motivi per cui sono nate negli anni 70 e vogliono fare le commissari dei comuni e dall'altro lato lo Stato che purtroppo ci porta spesso a vivere in condizioni di subalternità chiudo eh Giorgio allora io dico lanciamo veramente una grande iniziativa chiamiamolo congresso come vogliamo Nicola dove veramente noi riscriviamo la nostra carta d'identità e allarghiamo i nostri confini a ragione Matteo oggi Renzi ha annunciato che farà la lista in Toscana stamattina erano tutti nel panico in Toscana no io non mi alzo la mattina ogni volta chiedendomi cosa farà Matteo Renzi no io mi alzo ogni mattina chiedendomi cosa posso fare io per il PD e cosa può fare il mio partito e cosa possiamo fare noi molto possiamo fare non restringere i confini se siamo d'accordo di non annegare in un neoproporzionalismo anni 80 allargarli ora mi rendo conto che parlare del nome è questione riduttiva molto riduttiva può essere una provocazione no qualcosa di molto più strutturato allarghiamo i confini io credo che un cittadino che ha dentro di sé dei valori di principi liberal democratici debba in qualche modo trovare casa anche nel PD così come un cittadino che ha a cuore i grandi temi della sinistra delle diseguaglianze sociali possa trovare casa nel PD se siamo un grande partito popolare dobbiamo essere capaci di parlare con un linguaggio chiaro ha sensibilità tra di loro anche diverse il cui minimo come un denominatore è proprio la Costituzione italiana il PD è l'unico vero grande partito in questo paese che dentro i propri principi fondativi ha i valori e i principi della Costituzione italiana questo questo ci può permettere di allargare i confini e a quel punto di sfidare i nostri avversari ma di sfidare perché no in una logica di competition come direbbero gli inglesi cooperazione e competizione anche i nostri alleati chiudo davvero allora su 5 punti no no solo i titoli non vi preoccupate se ho superato Matteo Ricci ditemelo così non partecipo più ad altre assemblee ampiamente no no dai ampiamente superato primo Nicola leviamo questa norma per la quale lo dico io non ho nulla come dire sono fuori da ogni sospetto per la quale un sindaco se si vuole candidare in Parlamento si deve dimettere sei mesi prima della fine della legislatura perché questo è una mancanza di rispetto al ruolo dei sindaci degli amministratori locali anche per quello che possono contare in una campagna elettorale per il Parlamento secondo lo ha detto anche Enzo subito una proposta io non farei gruppo di lavoro la selezione magistrato Enzo alla prossima direzione del partito il segretario porta una proposta di modifica della norma sull'abuso d'ufficio subito alla direzione del partito tre e rivediamo alcuni aspetti della legge severino la proposta di Giorgio in base alla quale i sindaci siano parte costitutiva della direzione secondo me gli amministratori locali devono costituire almeno un terzo della direzione del partito almeno un terzo e ultimo punto raddoppiare se è possibile ma questo non è la legge bilancio i fondi per le periferie perché quello credo che sia un aspetto che ci possa essere molto di aiuto ogni volta che i sindaci si riuniscono il giornalista di turno chiede state facendo il partito dei sindaci no perché no perché se noi siamo qui è perché crediamo che il partito dei sindaci ci sia già ed è il partito democratico grazie bene grazie grazie veramente a tutte e a tutti per questa che io credo sia giusto chiamare una bella riunione di lavoro una prima bella riunione di lavoro che come è stato detto è utile perché finalmente non evoca un partito diverso che superi le strutture o le canne d'organo correntizie ma tenta di praticare un nuovo modo di essere comunità mi confesso che la prima idea di questa pratica a me è venuta il giorno nel quale sono salito sul palco dell'assemblea nazionale dopo la prima fase del congresso e salendo quei gradini all'hotel Ergife mi sono reso conto che a parte alcuni inviti a riunioni tematiche di amministratori io che da 12 anni faccio l'amministratore da 8 mesi il segretario del partito ma quel giorno mentre salivo i gradini mi sono reso conto che stavo forse diventando segretario nazionale del partito democratico e malgrado da 12 anni faccio l'amministratore era la prima volta nella mia vita che prendevo la parola in una sede nazionale del partito democratico tanto per sottolineare quanto è vero questa dimensione di separatezza tra due dimensioni della militanza o della funzione che si svolge è forte e a mio giudizio è molto grave e invece l'idea con Gori con Giorgio di fare il forum di aprire queste discussioni con i gruppi di amministratori e di rappresentanti del governo nasce proprio al di là delle declamazioni dalla volontà di unire le forze in fondo la Lega ha molti amministratori ma non ha esponenti di governo il Movimento 5 Stelle ha molti esponenti di governo ma non ha una forza nei territori di amministratori noi rischiavamo di e non possiamo rischiare invece di non utilizzare una immensa forza che è quella di unire una comunità che da collocazioni diverse può se collabora indicare una via possibile per il riscatto dell'Italia da qui l'idea di questa assemblea non parentesi nel nulla ma dell'inizio di una nuova pratica politica perché e di questo ne dobbiamo essere convinti se guardiamo all'Italia io se posso sintetizzare la nostra condizione oggi ecco se guardiamo all'Italia io credo che solo noi possiamo farcela a ridare una speranza all'Italia ma se non cambiamo rischiamo di non farcela neanche noi questo è il punto nel quale noi stiamo vivendo in questo momento nella vita della democrazia italiana solo noi cioè solo una grande forza nazionale unita unitaria e plurale e ricca di esperienze può dare una risposta alla crisi della democrazia italiana ma con la stessa determinazione dobbiamo essere coscienti che o provochiamo una discontinuità anche nelle nostre pratiche e in quello che stiamo solo se noi provochiamo questa discontinuità ce la faremo altrimenti rischiamo anche noi perché non possiamo sottovalutare quanto è accaduto a Piazza San Giovanni alcune settimane fa alcuni giorni fa e cioè il fatto che una parte d'Italia in quella piazza il problema non sono i numeri perché io sono di Roma e quella piazza è stata molto più piena di quanto lo era in quella giornata ma in quella piazza qualcosa è accaduto una parte della rappresentanza politica italiana ha fatto all'Italia una proposta di governo e quindi dobbiamo essere noi ad essere i costruttori di un'alternativa di una proposta migliore di quella che ha fatto la destra in quella piazza e che metta in campo una idea possibile di sviluppo del paese e per questo serve una forza nazionale ripeto unita plurale unitaria dico perché queste parole piacciono così ci capiamo una forza maggioritaria a vocazione maggioritaria cioè che parla al paese ma non isolata ecco qual è la forza dei sindaci e di lì per questo noi vinciamo perché nella nostra storia c'è stato un equivoco nell'idea che l'essere forza maggioritaria significasse essere isolati no si vince in tante città perché si incontra la volontà dell'orgoglio di una forza politica con la naturale vocazione maggioritaria che alla figura del sindaco e il partito democratico è una forza a identità maggioritaria cioè che ha l'ambizione non di parlare a un pezzetto sociale o a un pezzetto di rappresentanza politica no di mettere in campo una visione del paese maggioritaria ma per questo non vuole isolarsi e lotteremo io sono molto d'accordo con Dario l'ho detto subito comunque per non gettare la spugna e mantenere anche della nuova legge elettorale questo spirito maggioritario e la vittoria di tanti sindaci anche alle ultime elezioni è avvenuta perché intorno a delle personalità straordinarie ha vissuto a mio giudizio di più questa idea di mettere accanto a personalità straordinarie una vocazione del partito più aperta più unitaria più meno impaurita nel mettersi a disposizione degli altri in molti casi quando facciamo questo nei territori alleanze larghe dove il partito democratico è la forza più aperta si vince va meglio la coalizione e va anche meglio dal punto di vista elettorale il risultato del partito e quindi dobbiamo cambiare perché la dico così da segretario ma anche per i motivi che ho detto da osservatori perché tanti problemi perché questa denuncia di non dialogo io credo che ci sia un motivo storico strutturale di quello che è accaduto nella nostra storia e nella nostra democrazia negli ultimi dieci quindici anni noi abbiamo un partito nel quale ci piaccia o no tra le tante cose contano troppo poco coloro che hanno rapporto con le persone e con i cittadini e contano troppo chi ha rapporti con il potere romano questa è la verità questo è proprio il tema politico e non è un caso che sia così io non cerco con la lanterna la colpa di qualcuno ma c'è un tema che noi dobbiamo leggere e superare perché nel corso degli anni ci sono stati dei processi riformatori diversi il primo quello che ha individuato nell'elezione diretta di sindaci e presidenti di regione e allora delle province una proiezione della politica verso i territori verso il basso e quindi costruendo una classe dirigente che vive di rapporto con il territorio e poi dopo una pratica riformatrice dopo che nelle leggi elettorali nazionali di selezione della classe politica del Parlamento ha sostituito questa proiezione verso i territori con una contraria opposta centramento di decisioni verso chi assume le decisioni sulle liste finali e sulla rappresentanza politica passando e lo dice qui davvero un presidente di regione da un sistema nel quale il presidente di regione andando in un paese o in una città incontrava il deputato del collegio il senatore del collegio il consigliere provinciale il sindaco il consigliere regionale a non incontri più nessuno perché abbiamo anche noi nel nostro riformismo a mio giudizio in maniera subalterna ha avuto un'idea di innovazione che ci ha portato nel corso degli anni via via sempre di più a uno sfoltimento non dei costi della politica ma della rappresentanza politica e della democrazia riducendo il numero dei consiglieri comunali sbagliando perché questo in molti casi ha voluto dire rendere più instabili i comuni perché riducendo il numero rende più stretto il numero di consiglieri di maggioranza aumentando il ricatto nelle assemblee elettive di chi in tre possono mandare in crisi un comune e tutto quello che abbiamo conosciuto su tanti altri casi allora noi dobbiamo aprire una stagione riformatrice che rimette invece al centro la selezione della classe politica e per questo serve la comunità e io ringrazio i ministri i sottosegretari e mi trovo anche in imbarazzo perché dovrebbe essere e per loro è naturale confrontarsi con chi del proprio partito fa il sindaco e uno fa il ministro ma riunire queste due dimensioni è l'inizio della riforma del partito non quella declamata ma di una pratica che ci rende tutti più forti che evita o limita l'obbligo a quel punto del sindaco Tizio Caio di doverlo dire sull'intervista su Repubblica ma che cosa state facendo ma perché non avete pensato e la comunità serve ora esattamente a questo e se questo fino ad ora non è avvenuto è perché ha prevalso per tantissimi motivi l'idea invece di un pluralismo solo a canne d'organo per cui non si incontra il valore di chi fa il ministro il sottosegretario il sindaco il consigliere regionale ma si incontra solo nella dimensione del pluralismo politico della corrente a cui appartieni che parli di tante cose ma quasi mai della qualità della vita dei cittadini che dovremmo rappresentare e questo schema va distrutto altrimenti non ce la faremo mai e allora per ottenere questi risultati abbiamo bisogno di mettere in campo delle innovazioni la prima io lo so che sarà noioso e mi porterò la croce sui giornali di quello che con tutti i problemi che esistono quello si mette a riformare lo statuto lo so che è noioso infatti in 12 anni non lo ha mai fatto nessuno chiaro? adesso lo dobbiamo fare perché io sono molto d'accordo sul tema del congresso ma noi partiamo da una condizione nella quale nello statuto che ci tiene uniti la parola congresso non compare non è contemplata perché noi abbiamo estirpato dal nostro modo di essere addirittura l'idea che si debba e si possa stare uniti con un congresso nel quale si discutono le idee e le piattaforme culturali perché le uniche norme che abbiamo è per eleggere il segretario nazionale al quale si delega tutto noi ora abbiamo discusso nei regionali si sta discutendo e vi prego di metterci la testa e l'anima in quella discussione un po' noiosa ma la finiremo e la concluderemo il 17 novembre votando le motifiche allo statuto e quindi non tantissimo tempo che però apre una nuova stagione può aprire una nuova stagione innanzitutto elimina congressi che durano otto mesi nove mesi individua il tempo massimo di cento giorni per un congresso reintroduce il tema delle tesi politiche per sessanta giorni di confronto e lascia l'elezione diretta con le primarie negli ultimi trenta giorni per unire confronto politico sulle tesi senza candidato e al termine di questa fase chi si vuole candidare ma sulla base di una discussione politica viva Dio che prima ci ha unito perché se no poi ci lamentiamo che i segretari molti ahimè al volte se ne vanno ma se noi abbiamo come unico momento di discussione collettiva e generale quella della selezione che per sua natura divide sulle personalità è chiaro che indeboliamo un'anima comune noi invece pensiamo a un congresso attesi che in una prima fase metta al centro i contenuti i valori la politica chi siamo e poi sulla base di questo ragionamento come giusto che sia per avere un rapporto con il paese l'ultimo mese di battaglia politica con i gazebo con le primarie per permettere di costruire delle relazioni e dei rapporti diversi dentro già nel testo c'è la rappresentanza dei sindaci l'elezione diretta dell'assemblea nazionale solo per una parte con le liste collegate ai candidati segretario l'altra parte dai comitati regionali così come nella direzione la moltiplicazione dei luoghi di aggregazione e non solo dei circoli con le novità che vogliamo mettere in campo e in questo il ruolo degli amministratori sarà centrale perché non lo lega dentro la struttura solo a momenti come questo ma a una presenza permanente e auto rappresentata degli amministratori locali nei luoghi della direzione politica inizieremo a Bologna con questo grande appuntamento sugli anni 20 del 2000 perché tutto questo non può che non partire da una sfida culturale come ha detto Nardella prima sulla ricerca di che cosa serviamo noi e per renderlo comprensibile a tutti noi dobbiamo evitare e non lo dico come slogan che gli anni 20 del 2000 assomiglino agli anni 20 del secolo che abbiamo alle nostre spalle perché ci sono degli elementi sociali culturali che in qualche modo cominciano a creare quel rischio e cioè di una condizione economica sociale di crisi della rappresentanza politica di leadership che tentano di dare delle risposte che sono quelle che conosciamo se ha un senso il pensiero democratico è capire come gli anni 20 del nuovo secolo siano invece gli anni 20 del futuro del futuro di questo paese all'insegna di valori che sono di dignità della persona dello sviluppo della green economy di un modello quindi ecosostenibile di un'idea di democrazia che rimetta in discussione come lo Stato si è organizzato fino a questo tempo quindi la prima operazione è su di noi la seconda grande operazione io credo che noi e questa riunione utile in parte è emerso dobbiamo anche condurre nei prossimi giorni una grande battaglia di verità su come quanto sta avvenendo nella manovra economica è stata vissuta e raccontata a mio giudizio e l'ho detto in tutti i modi anche per un irresponsabile sbagliato equivoco di averla accompagnata con una polemica all'interno della maggioranza che non ci ha fatto bene però ora occorre una rivolta culturale contro la narrazione che si vuole dare su quanto stiamo facendo la manovra l'annuncio della manovra i contenuti che ne sono al centro in realtà non solo evitano i famosi 23 miliardi di IVA è una cosa enorme ma in realtà propongono a mio giudizio un'idea di futuro possibile per questo paese fondato su tre parole sviluppo e crescita giustizia sociale e green economy e cioè i tre pilastri di dove deve andare questo paese un paese che cresce in maniera molto maggiore di quanto la destra l'aveva condannato a crescere ed è possibile e lì dentro ci sono queste scelte giustizia sociale perché è quella crescita delle disuguaglianze che rende difficile a vivere a troppe persone e questo può avvenire solo se si fonda un nuovo modello di sviluppo fondato sulla green economy ed è importante trasmettere che noi siamo questa roba qua e non solo una coalizione che è fatta di partiti che litigano di personalità che si mettono quando io dico più unità nella coalizione è perché deve emergere questa visione e se non emergerà sarà il partito democratico a farsene interprete come abbiamo fatto dal 3 al 6 ottobre continueremo a fare io questo lo dico perché qui non dobbiamo scappare da un punto la forza della destra che è immensa sta tutta nella capacità di rappresentare e raccontare i problemi delle persone ma se incontra un'iniziativa politica questa forza della destra che si ferma a raccontare e rappresentare i problemi diventa anche una debolezza ma diventa una debolezza se incontra un'altra forza noi che quelle paure le intercetta e i problemi non solo riracconta ma a quei problemi mette delle soluzioni e indica delle soluzioni questa è la funzione di un partito maggioritario unito cioè non fermarci alla narrazione dei problemi che crea consensi Salvini è forte perché è il migliore a raccontare i problemi al tempo stesso sappiamo che è anche il peggiore a risolvere i problemi che racconta noi questa contraddizione la facciamo esplodere solo se si costruisce non con le pacche sulle spalle ma una narrazione una concretizzazione ecco perché gli amministratori sono importanti perché solo attraverso questo protagonismo questo risultato si raggiunge che dietro quelle tre parole giustizia sociale sviluppo e green c'è quell'agenda di cose decise mille euro in più in tasca a chi non ce la fa arrivare a fine mese il no alliva gli asilinidi il piano casa le periferie nelle forme che voi avete detto e che ora noi dovremo realizzare cose concrete e anche qui però se noi vogliamo essere coerenti terzo punto dobbiamo aprire un nuovo cantiere nella nostra cultura riformista e mi rivolgo in particolare a chi in questo governo dovrà dare un segno di discontinuità con la storia recente e anche con la storia degli ultimi 10-15 anni di governo di questo paese e che è stato negli interventi vostri di amministratori in tutti gli interventi noi dobbiamo domandarci il perché di questo distacco tra queste due dimensioni io credo che noi dobbiamo dirci la verità e cioè nel corso e in parte la forza della Lega sta anche in questa contraddizione nella nostra cultura riformista degli ultimi 10-15 anni e lo dico da amministratore da 12 che in qualche modo è stato anche testimone oculare di qualcosa che stava avvenendo noi abbiamo avuto un elemento di sottovalutazione drammatico nel quanto l'urgenza di rimettere a posto i conti dello Stato cosa fondamentale perché avere i conti in ordine è crescita e sviluppo quindi non ho nostalgie per chi dal palco o dal terrazzo di Palazzo Chigi diceva la schiavitù dell'Europa è finita tanto per intenderci però è anche vero se ce la siamo ce la vogliamo dire tutta che nel nostro modo di governare in questo mettere in ordine le cose c'è stata anche una gigantesca sottovalutazione e ripeto volutamente parlo di un tempo lungo perché non è una cosa che nasce negli ultimi anni una enorme sottovalutazione di quanto fosse ugualmente importante in questo processo tutelare la trincea del rapporto con i cittadini che sono la dimensione attiva dello Stato degli enti locali dei sindaci dei livelli più a contatto con la società perché altrimenti noi non ce li spieghiamo i risultati elettorali che ci sono stati in tante occasioni o diamo delle risposte consolatorie ovviamente io credo che è stato fondamentale il risultato che abbiamo ottenuto di aver riaperto la crescita di questo paese e averla portata all'1,7% quando ce l'abbiamo fatta tanto è vero che loro in 15 mesi l'hanno riportata a zero e questo ci dice quanta fatica ha voluto dire riportarla a quell'1,7% grazie a politiche economiche però in quegli anni è anche accaduto secondo me in tanti anni della nostra cultura di governo che troppo e volte abbiamo confuso delle parole abbiamo confuso la parola costo con la parola servizio al cittadino abbiamo confuso o non abbiamo capito quanto quella posta di bilancio che aveva dietro la parola taglia i trasferimenti agli enti locali poi aveva un costo sociale nella quotidianità che ha contribuito ad alzare il livello delle disuguaglianze sociali in questo paese che non sono solo disuguaglianze di reddito ma sono disuguaglianze di accesso ai beni comuni perché la disuguaglianza soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne il cittadino la percepisce quando l'autobus arriva non più ogni 15 minuti ma ogni 25 minuti oppure il tram non passa più oppure la polizia delle strade è rallentata oppure quel sistema di welfare che avevamo costruito ci siamo illusi di poterlo sostituire con la monetizzazione del welfare e invece il welfare moderno è quello che prende in carico la condizione umana della persona oppure la sanità oppure la sottovalutazione di quanto chiudendo uffici postali commissariati posti di prestiti di polizia urbana o di punti dei carabinieri o di servizi poteva favorire come poi è accaduto un processo di metropolizzazione delle nostre sistema svuotando i piccoli comuni e le aree interne e allora io dico nel nuovo partito nel nuovo governo serve il protagonismo degli amministratori non perché dobbiamo fare un favore a chi fa il sindaco o a chi fa l'amministratore ma perché in questo rapporto fecondo che sta la risposta alla ricostruzione di un'empatia tra noi e gli italiani perché le nostre politiche diventano concrete perché l'elemento di rottura molte volte c'è stato quando la politica non ha saputo si è resa responsabile della cancellazione di un servizio o della percezione che rispetto al mio bisogno di cittadino per un motivo nobile lo Stato non c'era più e quindi io mi sono sentito solo rispetto a quella condizione rispetto a quella dimensione è stato detto di vita vera ecco perché dobbiamo fonderla questa doppia dimensione del governo per chi governa delle sedi parlamentari e degli amministratori perché solo se queste tre dimensioni stanno insieme noi produrremo politiche di innovazione riformiste che liberano la persona attraverso la crescita è il miglioramento della vita ecco perché difendere il valore degli amministratori in una nuova agenda di governo non per fare un favore a qualcuno ma perché solo attraverso questa amalgama noi poi riusciamo a fare delle scelte che abbiano un senso perché altrimenti e lo dico da presidente di regione neanche come è stato detto dalla poltrona di presidente di regione si vede quella roba lì e noi siamo stati corresponsabili di quella tendenza contro la quale dobbiamo combattere delle regioni come grandi comuni e questo non è giusto e allora quarto punto quello che io vi chiedo è di pensare ad assumere una svolta nel diventare classe dirigente che vuol dire che vuol dire nei mesi e nelle settimane che abbiamo di fronte come è stato detto non solo e lo faremo nella discussione provvedimento per provvedimento di quello che occorre ma di aggredire il tema che abbiamo di fronte che io credo sia quello della riorganizzazione dello Stato per rendere lo Stato utile alle persone a chi produce e a chi in questo paese soffre perché purtroppo e noi non possiamo assegnarci a questo oggi vivere in Italia è diventato complicato è diventato troppo complicato è diventato complicato fare l'amministratore ma è complicato anche fare l'imprenditore fare lo studente universitario fare il pensionato tutto è diventato complicato ed è diventato complicato vivere produrre fare imprese anche per motivi molto chiari e io credo che se questo governo ha un compito e mettere insieme questa miccia ha un senso è perché noi dobbiamo smantellare una struttura di quello che siamo diventati per cui in Italia in troppi decidono e in troppi controllano chi decide e lì c'è il black out in troppi decidono e in troppi controllano chi decide e allora nella riforma del testo degli enti locali quale che sia il testo ma io lo dico noi dobbiamo decidere che nell'organizzazione dello Stato non è possibile che tutti mettono la bocca su tutto che tutti decidono un pezzetto di cosa io sono per le competenze esclusive lo dico io si decide che la regione fa la sanità come è ma non è detto che si deve occupare di per sé della gestione di tutto e allora vedo le regioni come grandi enti legislativi le aree intermedie vediamo quali perché su questo prima o poi il coperchio sulla pentola lo dobbiamo aprire le politiche di rete e i comuni i grandi servizi alle persone e ai cittadini e se in questo nuovo quadro la regione dico per esempio non si deve occupare di cultura perché in Italia se ne occupano i ministro e i sindaci e i comuni quello è smantellando un'idea di stato nel quale tutti fanno un po' tutto e folle e folle e lo sapete la vicenda dell'abuso di ufficio tutti controllano i tanti che fanno quello che si deve fare ma così non si va avanti e allora una cultura riformista dei democratici è quella che mette le mani in questo guazzabuglio figlio di 30 anni di affastellamento di leggi che rende ormai difficile essere una democrazia decidente la democrazia decidente noi dobbiamo rimettere insieme queste due parole per evitare il rischio che la parola democrazia coincida con non decidere nulla e qualcuno sulla base di questo teorema punti a una società decidente a prescindere dalla democrazia noi vogliamo la democrazia decidente e la democrazia decidente è una democrazia che funziona e se non funziona una funzione dei democratici in questo paese è quella di farla funzionale con un riformismo radicale che ha il coraggio anche di mettere mano a delle questioni che sappiamo complesse ma che vanno fatte io l'ho detto l'altro giorno in televisione quindi lo ridico qua io credo se apriamo questa discussione che nelle carriere di direzione dello Stato debba esserci l'obbligo sopra un determinato livello per tutti i dirigenti di fare almeno tre anni di carriera in un livello diverso dello Stato tre anni in una regione tre anni nel ministero o tre anni in comune tre anni in un municipio perché solo se tu ridai una dimensione di rappresentanza dello Stato poi non vedrai l'interlocutore del comune come il tuo nemico solo perché stai al ministero e lo tratti da deficiente perché quello non ha capito niente e quello del comune lo tratta da arrogante perché non capisci i problemi dei cittadini ma queste sono le cose concrete che sbloccano la qualità della vita delle persone e la riforma dello Stato lo dico con il venerabile rispetto per i centri studi questa volta la facciamo con un protagonismo diretto degli amministratori perché anche questo è stato un'illusione anche questo è stato un errore quello del costruire processi di riforma che hanno unito la rappresentanza parlamentare con il contributo assolutamente necessario assolutamente necessario ma predominante alcune volte di un riformismo che si è nutrito troppo di quella dimensione lì come abbiamo visto non è funzionato e quindi noi dobbiamo su questo cambiare e infine ultima cosa che voglio dire è ovvio che tutto questo va accompagnato da una proposta credibile da una proposta politica credibile io la dico così per me la proposta politica credibile è una visione di futuro dell'Italia e delle gambe che la rendano credibile delle gambe di consenso popolare che la rendano credibile questo è il punto noi non possiamo e non potremo mai correre il rischio di rinchiuderci in una funzione di rappresentanza nobile delle nostre idee non siamo nati per questo anzi noi esistiamo come partito democratico proprio perché in un momento della storia abbiamo visto che eravamo forse sì in grado di mettere in campo delle buone idee ma c'era una fragilità che rendeva impossibile a quelle idee di affermarsi e quindi noi nel tempo di oggi dobbiamo essere quella forza politica che mette in campo un'idea di paese ma figuriamoci siamo qui apposta con la nostra autonomia con la nostra capacità analitica con le nostre forze e quindi dobbiamo avere una nostra idea di paese e al tempo stesso però rispetto all'offerta della destra che ha una non idea di paese ma anche le gambe per farla camminare di consenso elettorale di alleanze politiche dobbiamo costruire insieme accanto a quest'idea di paese un progetto credibile è chiaro che sono molto d'accordo decideremo insieme con profondità e dentro un processo politico però io dico una cosa dalla quale non possiamo scappare e cioè il 48 45 50% della rappresentanza politica di questo paese a destra si è unita e si è unita dietro un liter di destra che probabilmente creerà anche problemi seri di rappresentanza a tanti soggetti moderati in mondo produttivo e non solo produttivo ma li creerà solo se sarà in campo un'altra credibile e più efficace proposta politica e allora noi non possiamo non porci il problema se il 45 48 50% d'Italia si è unita dietro una proposta politica che l'altro 40 45 48% di rappresentanza politica che apro e chiudo parentesi governa insieme e come è stato detto vuole farlo per i prossimi tre anni governa insieme e lo dice uno che sapete quanti dubbi aveva nel fare questo governo ma adesso governa insieme e lo vuole fare noi abbiamo l'obbligo morale non di fare accordicchi sotto banco di nascosto o fare dei salti del rubicone dicendo siamo tutti uguali perché non siamo tutti uguali anzi c'è anche una competizione in questo campo di forza e ci sarà una competizione ma rispetto al futuro io non mi voglio più trovare nella condizione di agosto o di luglio un momento storico nel quale tutti tutti abbiamo avuto e abbiamo percepito addirittura sulla nostra pelle la paura ad affrontare un confronto elettorale che non ci vedeva nello scontro preparati quindi abbiamo il dovere a partire da noi dalle nostre idee dalla qualità del nostro governo tanto è vero che io dico sottoscrivo e ribadisco il governo va avanti fino a quando riesce a dire e a fare qualcosa di utile per questo paese altrimenti perde di senso ma noi dobbiamo capire come questo 45 48 per cento di paese non rimane fermo a contemplare le differenze ma sulla base dell'esperienza di governo tenta di verificare punti avanzati di convergenza e di costruzione poi non so se la parola è strategica dice l'alleanza strategica sono parole aggettivi che non comprendo e che subito creano delle caselle quello vuole l'alleanza strategica io voglio l'alleanza saltuaria ma scusate ma se decidiamo di governare per tre anni insieme la settima potenza industriale del pianeta io non so qual è l'aggettivo io la chiamo alleanza il compito che noi abbiamo è forte delle nostre idee verificare se questo altro 45-48% di paese si organizza sapendo che non è solo il PD e gli altri partiti ma sono quelle forze civiche che voi rappresentate ma guardate che stanno accanto a voi perché nei vostri comuni rappresentavate una ipotesi e una proposta di governo se quella proposta di governo non fosse stata chiara e organizzata intorno a voi quelle forze civiche avrebbero preso altre strade e quindi noi dobbiamo porci il problema di mettere in campo una credibile proposta di governo che sposti soggetti sociali culturali intorno a un'ipotesi credibile alternativa altrimenti lo dico io perché è così e non dobbiamo avere paura di dircelo si fa solo testimonianza si pensa a se stessi e non si pensa all'Italia noi invece esistiamo con i nostri contenuti per pensare ed essere utili all'Italia e questo è un movimento che è un partito che è utile all'Italia se ha un'identità se è una comunità se mette in campo delle proposte dei contenuti e anche una visione del domani come inizieremo a fare a Bologna che crea un'emozione verso il futuro perché io credo che sia una bella missione quella di impegnare non noi ma milioni di italiani nel capire come gli anni venti del nuovo secolo che iniziano il primo gennaio siano gli anni della svolta economica culturale sociali delle relazioni e indicano all'Italia una nuova prospettiva e su questa sfida tentano di organizzare e convincere la maggioranza degli italiani e ritorniamo lì è inutile che ce la arrabbiamo con gli altri non dobbiamo arrabbiarci con i nostri avversari se non riusciamo noi ad accettare la sfida di governare e di essere un'ipotesi migliore di loro i pezzetti del PD da soli non ce la faranno mai e quando dico i pezzetti le varie correntine o i pezzetti i vari settori nelle funzioni che ci si trova a vivere senatore parlamentare ministro sottosegretario consigliere deputato sindaco presidente di regione noi metteremo insieme una massa enorme ma di debolezze insieme questa comunità che ci si trova a vivere